Mi scusi signore. Ah, finalmente ho avuto fortuna. Non c'è prima classe in autobus. Lei mi sta seguendo. Non ho pensato ad altro da quando l'ho vista salire da Bangkok. Sfortunatamente il governo non ci paga così bene da poterci permettere la prima classe. Sono felice di averla potuta conoscere. La signora non sembra condividere il suo entusiasmo. E in fondo l'autobus è vuoto. Perché non si siede laggiù? Grazie, ma non è il caso. Lei è davvero gentile. Ma so cavarmela da sola, grazie. Ma perché succede sempre a me? È il lamento del giocatore di poker quando gli arriva una brutta carta. O l'urlo del cacciatore quando fallisce il colpo. Ed è la mia eterna domanda quando incontro una signora in pericolo. E questa è davvero nei guai. E si vede benissimo. Dovrei voltarmi e andarmene. Ma anche questo è un atteggiamento di cui non sono capace. È come un vizio cardiaco, credo. E una volta o l'altra è probabile che ne morirò. No! 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 Perché vuole uccidermi? No! Attento! Attento! Tutto a posto? Sì, grazie. Signor? Templer. Simon Templer. Tutto a posto? Allora! Allora! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi dica cosa c'è in quella valigetta? Perché quegli uomini volevano ucciderla per averla? Allora? La prego. Mi ridì alla valigia e mi lascia andare. Se rimango ancora qui lei correrà un grave pericolo. Mi staranno già cercando. Hanno visto anche lei. Sono furbi. La troveranno. Ci uccideranno entrambi pur di avere quella. Gli uomini di Mataglia non scherzano. Mataglia? Ecco da dove viene lei. Ma cosa c'entrano gli uomini di Mataglia? Cosa c'è lì dentro che rende il nuovo salvatore del sud-est asiatico così nervoso da volerla uccidere? Senta può fidarsi di me. E chi me l'assicura? Vuole sapere che cosa contiene? Sangue. Per rubare i documenti che sono lì dentro. Mio fratello ha dato la vita. Avanti, la apra! Legga delle ventisuore che saranno giustiziate nelle prossime 48 ore perché... perché volevano far sapere al mondo del bagno di sangue che sta inondando il mio paese. Coraggio, la apra! No. E allora lasci che faccia il mio lavoro fino in fondo. Se ci proverà avrà fatto il suo viaggio fin qui per niente. Lei vuole avvertire i giornalisti perché tutti lo sappiano, no? Almeno voglio provarci. Quelle suore saranno già morte quando lei riuscirà ad essere ricevuta da un editore. Se lei mi assicura che quei documenti sono autentici posso aiutarla io. O meglio ci proverò. D'accordo, la porti pure da sola. D'accordo, questi documenti sono autentici. Cosa vuoi che faccio, Simon? Devo accendere dei ceri, pregare per i morti o chiedere al primo ministro di dichiarare guerra. Vedi, da mesi conosciamo queste atrocità. Non abbiamo bisogno di essere informati. Congratulazioni. Sono molto più tranquillo sapendo che siete al corrente di tutto. Non ho detto che ci lascia indifferenti. Siamo perfino in contatto con il Vaticano. Stiamo usando tutti i canali diplomatici. E quando avranno luogo i primi incontri? Domani? Tra una settimana? Tra un mese? Ascoltami bene, Simon, e cerca di ricordartelo. Non sono io che voglio uccidere quella gente. E neanche l'Inghilterra. Questo riesce a capirlo, vero? Senta, il suo paese non fa nemmeno parte del Commonwealth. E anche in quel caso non potremmo assolutamente interferire negli affari interni... Signore, credo che sia meglio che lei rinvii il suo discorso a dopo il massacro. Randolph, ascolta un momento. Abbiamo due agenti in quel paese, tu lo sai e io anche, quindi non negarlo. Usali, rischia, ordina a quei due di far scappare le suore. Gli israeliani ci hanno dato un esempio a Entebbe, è possibile. Simon, stai diventando pazzo. Sì, lo so. Non sentire e non parlare, vero? Dovrei nascondere la testa nella sabbia, come te. Beh, io non ci riesco. Ma forse, come dici tu, sto diventando pazzo. Il mio appartamento è qui vicino, aspetterò lì finché non... Finché non la troveranno. Se lei è un tipo fortunato avrà ancora un'ora di tempo. Non sarà facile trovarmi, l'ho affittato sotto falso nome. Ma Taia non scoprirà mai cosa abbiamo fatto io e mio fratello. Bene, questo le dà un'altra ora di vantaggio. Santa, perché hai così deciso ad aiutarci? Sono nato con un vizio congenito. Non riesco mai a voltare le spalle a una bella donna, specialmente se è francese. Lei ha sangue francese, vero? Da parte di mia madre. Senta cosa ho deciso. La terrò al sicuro aspettando la prossima mossa. E non mi ripeta che sono furbi e che mi troveranno. È lei che cerca. Lasci fare a me. No, non lo faccia. Non ha cattive intenzioni, è un amico, un simpatizzante. Sì, ma ora ho solo una gran voglia di sparare. Sono desolato. Quando all'ambasciato ho sentito cos'era successo all'aeroporto. Sono venuto a vedere come stava Jeanette. Mille scuse, signore. Venga. Come mai sei uscito allo scoperto? E hai lasciato l'ambasciata? Surinit. Arriverà qui a fine settimana per chiedere un prestito. Ho decifrato il messaggio io stesso. Atterrerà come al solito su un campo privato. Sempre per ragioni di sicurezza. Così per me sarà molto più facile. Ucciderlo. Ucciderlo? Lui e Matai hanno ucciso centinaia dei miei uomini. Ora uccideranno anche quelle suore. Servirà solo ad alimentare l'odio. E per vendetta scateneranno un vero massacro. Che stroncherà inutilmente migliaia di vite umane. E lei chi è per contraddirmi? Io ho messo a repentaglio la mia vita, abbandonando l'ambasciata. Surinit morirà. E chiunque mi intraccerà la pagherà a caro. Ti riferisci a me, Cuna? Perché io non sono d'accordo. Non voglio che tu ora rovini tutto. E ti assicuro che quelle suore non moriranno a causa della tua sete di vendetta. E come impedirai la loro morte? Come farai a salvarle? Con un piccolo gruppo di uomini. E con un ricatto piuttosto sgradevole. In poche parole un rapimento. Preleveremo Surinit all'aeroporto. Lo porteremo in un posto sicuro. E lo rilasceremo solo in cambio della vita di quelle suore. Facile a dirsi. Trovate gli uomini il denaro per pagarle un nascondiglio sicuro. Tutto quello che ci serve è un pilota e un elicottero. Ma forse basta anche un piccolo aereo. Ma il pilota c'è già. C'una è un maggiore dell'aviazione. E sarebbe disposto? Chi è lei per fare tutte queste promesse? Le promesse costano poco. Non questa. L'impresa ha un prezzo molto alto. Vi costerà parecchio denaro e forse anche qualche vita umana. Non sarà a buon mercato. C'una, ti prego. Cosa abbiamo da perdere? Ascoltiamo quello che ci propone. Io ascolto soltanto quello che dice il colonnello. Lei ha deciso di uccidere Surinit e sta a lei decidere se farlo o meno. Chi sarebbe questo colonnello? Il colonnello Diba è il consigliere militare accreditato all'ambasciata. Ma in realtà anche lei sta dalla nostra parte. E senza la sua approvazione io non posso fare niente. La contatti, le spieghi la cosa. E cerchi di convincerla che se non farà come diciamo noi, assisterà ancora alla morte di molti innocenti. E senza ragione. E senza ragione. Verrai allontanato dal servizio, Simon. Se ti butti in quel modo. Tu sei stato cacciato per questo, no? Ma quando mai? Me ne sono andato da solo. Ah sì, darsi tutte quelle arie a 20.000 piedi da terra non ti bastava più, vero? Eri tu che ti mettevi in mostra. Io amo impressionare i miei colleghi. Credevo che oggi fossi in gita di piacere. Visto che me lo chiedi, sono in missione, Jim, e ti voglio con me come seguito. Spiacente, bellezza. Ma non prendo ordini neanche da te. No, avanti, Jim. Non dire sciocchezze. Tu prendi ordini da chiunque ti paghi bene. Ah, beh, vedi, questo dipende dal momento. I tempi sono duri. Ma io pago bene, lo sai. Sbaglio o hai parlato di soldi? Già. Vedi, il nostro ostacolo più grande è che Surinit è ossessionato dalla paura. Non si fida dei nostri aeroporti, li trova insicuri. Lobbiasimi? Nessun aeroporto internazionale è sicuro. Infatti. E quindi ha scelto un aeroporto privato. Midrans Est. Ha voluto tutte le garanzie del più stretto riservo e le ha ottenute. Questo rende l'azione più ardua. Ma non ci sarà spargimento di sangue se attaccheremo di sorpresa. Tutto così facile? Ma ci occorrono cinque uomini, con doti eccezionali. Chi? Avanti, Jim. Questo è il compito tuo, no? Cercali. Bassoa viene da Marsiglia. Malik dalla Polonia. Sono inseparabili da quando hanno combattuto in Vietnam. Poi nelle file dei mercenari nelle Filippine, a Malaya. Combattono da soli o in coppia. Non sono socievoli, sono i migliori. Abbiamo preparato la lista delle misure per le uniformi. Non è d'accordo? Sì, grazie. Wilkes. Non lasciarti ingannare dalle apparenze. Si è guadagnato i gradi in marina. È un genio dell'elettronica. E se è finito qua giù è solo perché preferisce gli animali agli uomini. È un elemento di valore. Mi occorre un certo equipaggiamento. Ecco la lista e l'indirizzo dove comprarlo. Grazie. Morgan, dottore in filosofia, ex commentatore politico, ex annunciatore. È diventato emarginato sociale a causa delle sue idee troppo estremiste. Si adatta a fare qualsiasi cosa per vivere. A noi servirà per la sua voce. Cornelius, giamaicano. È un ex marine reale, uno dei pochi mercenari che ha lasciato l'angola e ha fatto fortuna. Può colpire una nocciolina a 100 yard anche se è costretto a chiudere gli occhi. Ama l'avventura e le donne. Spalma adrenalina sul pane. Salve, Gilles. Senti, stiamo cercando due RPG. Dei razzi e dei candelotti fumogeni. Puoi procurarceli? Come fa tu, amico mio? Dà pure ai ragazzi quello che vogliono. E questo sarebbe il nascondiglio. Sembra una casa di fantasmi. A dire la verità credo che lo sia. Non ho mai visto nessuno qui intorno. Appartiene a un mio amico che non fa domande. Quando incontreremo gli altri? Stasera a casa mia, alle 8. Verrà anche il colonnello Diba. È un soldato e vuole prendere il mio posto nell'operazione. L'equipaggiamento elettronico è al completo. Le uniformi. I passi per l'aeroporto. Eccoli. Accidenti, non sembrano farsi. Non lo sono. Ho anch'io le mie conoscenze. Posso avere tutti i pass che vuoi. Anche quello di Birmingham Palace. Molto bene. Allora. L'RPG. Un fucile con pallotto esplosivi. Ci occorre un aeroplano. C'una ne ha affittato uno. È andato a prenderlo ora. Bene. Il furgone postale ce lo procurerà il nostro Charlie. C'è tutto. Siamo pronti per cominciare. Mancano le pistole? No. Avanti, non essere sciocco. Se ci catturano, scusa. Niente violenza, eravamo d'accordo. Ti prego, ragazzo mio, non parlare male anche tu della violenza. È una forza purificatrice, soprattutto per gli oppressi come noi. Ti aiuta a vincere i nostri complessi. Risveglia la fiducia in noi. E piantala, Morgan. Simon, sei ragionevole. Finiremo tutti in galera. Ho detto di no. È una decisione irrevocabile. Chi non è d'accordo... ...se ne può andare. Tu sei matto. Faremo il punto domattina alle nove al nascondiglio segreto. Vi voglio tutti. Andiamo, Morgan. Simon. O Ara forse ha ragione. Stiamo correndo un grosso rischio. Stia tranquillo, avremo gli angeli custodi dalla nostra parte. Ma come fa lei a essere sempre tanto sicuro? Sono testardo. E inoltre non ho mai paura di rischiare. Ce la faremo. Quell'ambulanza dovrà muoversi come un fulmine. E infine, recitate bene la vostra parte con semplicità e convinzione. Nessuna domanda? Farlo alla luce del giorno è una cosa che mi preoccupa. Sì, ma non possiamo cambiare l'orario di Surinit. D'altronde hanno scelto un aeroporto privato, senza radar di superficie. Muovetevi come stabilito e vedrete che non vi scopriranno. Io ho la pelle scura, amici. Ma nessuno se ne accorge mai. Eccetto mi amato. C'è qualcos'altro? Potremmo raccontare la nostra impresa ai giornalisti? Cosa hai detto? Beh, è un colpo mortale contro la tirannia. Propagandiamolo. Io me ne interesserei volentieri gratis. Non stai scherzando. No, mi spiace niente ai giornalisti. Peccato. Sarebbe stato bello essere immortalati come Friar Tuck. Beh, tu Jim vuoi dirci qualcosa? Sì. Niente colpi di testa. Da parte di nessuno. Certo. L'ora zero è per le dieci. Ciascuno raggiunga da solo il suo bersaglio. E buona fortuna. Signori. Che Dio vi protegge. Dio vi protegge. Quattro, tre, due, uno, zero. Partiti. Golfa Alfa Papa, pronti per il decollo. Ricevuto Golfa Alfa Papa, decollo autorizzato. Quattro, 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 quattro. Ci siamo, cento yards. Fermali. Su, forza. Dammi una mano, scarichiamo. Su, vai. Sì. 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 Il volo Charlie X Ray chiede di entrare in Hungarian. Papà, mamma, mi senti? Questo è il capo. Deve risponderlì. Mamma, papà, io ti sento bene. Come vanno le cose lì, tesoro? È tutta una gioia. B-Est, D-Ovest, F-Centrale. Resta in ascolto, mamma. Belzebù entrerà in contatto da un momento all'altro. B-Bravo, coprire la zona Est. B-D-Esta, coprire la zona Ovest. F-Foxflot, coprire la zona Centrale. Torre di controllo di Midlands Est. Qui Charlie X-Ray 001. Volo presidenziale. Chiedo istruzioni per l'atterraggio. Ricevuto Charlie X-Ray 001. Qui torre di controllo di Midlands Est. Scendere a livello 3-0. Mamma a papà. Belzebù è in orario. Atterreremo tra pochi minuti, eccellenza. Mancano tre miglia per l'impatto a terra. Mantenere l'inclinazione di discesa. Prepararsi ad atterrare sulla pista principale. Ridurre la velocità di volo. Ancora due miglia per l'impatto. Mamma a papà. Mancano due miglia per l'impatto a terra. Ricevuto mamma. Grazie a tutti. In Mol Greco. Grazie a tutti. Tutto procede bene, pronti per l'atterraggio. Mamma, papà, l'atterraggio è ormai imminente. Il comitato di benvenuto è pronto, mamma. Ci siamo, buona fortuna. Resta in linea, Guglielmo Tell. Colpisci la mela, Guglielmo Tell. Hey, 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 esercizio bonfieri. Emergenza, squadra pronto soccorso, emergenza. Qui, mamma, è scattato l'allarme. Florence Nightingale, muoviti. Dai, a tutto gas. Sta tranquilla, mamma, lascia che il pandemonio si calmi. Bi, bravo, portarsi sulla pista principale. Bi, bravo, procedere verso la zona di atterraggio. Gol, palpa, papa, procedere. Bi, bravo, dove stai andando? Bi, bravo. Liberare subito la pista di atterraggio. È tutto sotto controllo, procedere sulla pista d'arrivo come stabilito. Non procedere sulla pista d'arrivo. Procedere via taxi Alfa 5. Ma che diavolo sta succedendo? Supervisore a torre di controllo, cosa avete da obiettare? Mamma, sei un tesoro. La pista sembra in stato d'allarme, eccellenza. Dragon, sputa fuori il fumo. Voglio ammottare il fuoco. No, no, cosa fate? No, lasciatemi. Qui i servizi di sicurezza. Tutte le unità ai loro posti. Bloccare le uscite dell'aeroporto. Tutte le unità procedono verso la zona ove. No, ma... No, ma... Porza, ragazzi! Va! Mamma, abbandona il campo! Lasciali, troveremo dei posti di blocco, no? No! No! No, no, no. Grazie. Arrivederci. Non possono essere spariti senza lasciar traccia. È successo qualcosa? Non è successo niente. Siamo... Anzi, io sono stato sfruttato. E fregato. Tu, bellezza? Allora il mondo è proprio cambiato. Non posso crederci. Nessuno sparisce in un piano di volo registrato. La torre di controllo del traffico aereo se ne accorgerebbe. No, sono passati sotto il controllo del radar. Ingannando tutti, noi compresi. Per uscire dal paese? No, no. L'aereo non ha l'autonomia. Un viaggio aereo è una cosa seria. Non si può eludere tutta la sorveglianza dei confini. No, sono ancora qui intorno. Ah, la mia solita sfortuna. Sono già stato fregato prima d'ora, ma stavolta... Il tuo orgoglio è stato offeso. Beh, succede ai migliori di noi. Prendila come un'esperienza. No, non posso. Non quando il fatto è così grave. Inoltre voglio scoprire chi sono i nostri amici e cosa vogliono. Aspetta, mi tornerò presto. Buona fortuna, Simon. Sei stato fregato, vero? E sai che cosa hai fatto? Hai consegnato Surinit alla polizia segreta di Mattaia. Lui era l'unica speranza rimasta a quel disgraziato paese di sfuggire al tiranno. Ma tu non lo sapevi. Surinit aveva già chiesto la nostra protezione. Voleva denunciare Mattaia alla Commissione dei diritti umani. Con lui libero quelle suore avevano una speranza. Ora sarà difficile che sopravvivano. Come per te sarà difficile evitare la galera. Che possibilità aveva il colonnello Diba di portarlo dentro l'ambasciata? Nessuna. È presidiata. L'abbiamo circondata cinque minuti dopo il rapimento. Non è lì. Beh, Simon, è meglio che tu ti metta all'opera. È quello che farò. Eh, immagino che avrete già bloccato tutti i porti e gli aeroporti. Oh, sì. E io immagino che tu abbia già capito che devi riportarci Surinit vivo. Sperando che sia ancora vivo. Simon? Sì? Ti concedo 24 ore. Dopodiché, se non ci riporterai Surinit, ti prometto che avrai la condanna più dura nella storia dell'impero britannico. Ogni cosa ha suo tempo. Ma se fossi loro complice mi troveresti qui? Ragiona, Simon, sarai già in volo verso Singapore, no? E il colonnello probabilmente sta viaggiando con Surinit nel bagagliaio. No, sono sicura che l'ha nascosto dentro l'ambasciata. Il foreign office non ci crede. Ma non conoscono il colonnello. Se lei vuole può nasconderlo in... in qualsiasi posto. E dove? Hanno fatto un errore, se vi interessa. Hanno cambiato la loro frequenza. Ora è di 235 megacicli. 235? Sì. Ma è la frequenza dell'ambasciata. Allora Surinit deve essere lì. È impossibile. Te l'ho già detto e ora te lo ripeto nuovamente. Non abbiamo lasciato entrare nessuno nell'ambasciata. Santo cielo, Simon, non siamo degli idioti. Nemmeno loro. Non siamo degli doctorati che finisce no. Sono sicuro. Non è l'ambasciata. Non siamo piccii più testi. evitato non sono 있었i. Sono colossi Datejoni una nuova. No, mi bechi. Ma è ven ata lì! verdad, non mi bechi? Lin�ば... Molto. Molto! Le classico risicolo! Grazie. Dica, signore. Per caso qualcuno dei suoi uomini ha toccato questo tombino? Perché avrebbero dovuto farlo? Qualcuno l'ha fatto di sicuro. Scommetto che sfocia nelle cantine dell'ambasciata. Posso far controllare se c'è stato qualche lavoro di manutenzione nelle ultime 12 ore. E scoprirà come il surinite è arrivato lì. È un bel pasticcio. Se il surinite è là dentro, siamo fregati. Non possiamo entrare, è territorio straniero. Nessuno di noi può farlo. Chi gliel'ha chiesto? Non contare su di me bellezza. Non prendo parte a questa festa. Che fine ha fatto l'uomo che vive solo per il denaro? Ho soldi abbastanza per mandare tutto al diavolo. Prima che la polizia mi becchi per essermi cacciato in questa tua pazzia. Se mi dai una mano, tornerai un onesto cittadino. Pensaci bene, Jim. Ci spiace, ma abbiamo già letto, Nietzsche. Templar, noi non siamo superuomini da poter entrare e uscire vivi da quell'ambasciata. Scordatelo. Abbiamo chiuso. Tutti qua. Non mi farei vedere in giro per Londra se fossi in voi. Tenterò di farcela da solo, ma se fallirò, la polizia farà molto presto a scoprire chi era con me all'aeroporto. Ci tradiresti? No. Ma sapendo come siete, vi tradireste da soli, prima o poi. Si chiama mancanza... di carattere. Senti, questo carattere mi ha dato una croce di guerra. Due pallottole nel fianco e una pensione che non basta a un mendicante. Eppure, se credessi di avere una chance, una soltanto, ti aiuterei. Perché sotto questa dura scorza batte ancora un cuore. Noi abbiamo una chance. Nemmeno una, Simon. Buona fortuna, amico. Mi hai bisogno. E senza rancore. È inutile continuare a sorvegliare l'ambasciata. Ho fatto tutto ciò che era in mio potere. Jim ha ragione. È un impresardo a portare fuori Surinit. E vivo. Bene, dici noi che stiamo per morire con quel cassetto. Cosa stai celebrando? La pazzia. La mia, la tua, è quella di tutto il mondo. Già. E poi c'è il fatto che ho perso tutti i soldi che mi hai pagato con tre tiri sfortunati ai dadi. Capisci, bellezza? Sono al verde e ho un disperato bisogno di lavorare. Allora, hai deciso di fidarti o te lo metto per iscritto? Abbiamo solo due ore. Ti consiglio di farti una bella doccia fredda. D'accordo. Io intanto ti preparo un po' di caffè. E dopo? Mi ha fornito la pianta dell'ambasciata. Ora sappiamo dove tengono Surinit. E poi? Se fossi te direi anche una bella preghiera. Per tutti e due. Gas, lacrimogeni. Lancia razzi. Spray. Sì, c'è tutto. Sì, c'è tutto. C'è tutto. C'è tutto. Sì. C'è... Grazie a tutti. Signore? Sono dell'ambasciata. Scusate tanto, sono l'idraulico. C'è una riparazione urgente. Vada da quella parte. La ringrazio. È l'entrata di servizio. Sì, ho capito. Tutto a posto, signore. Grazie. Grazie a tutti. Aiuto! Aiuto! Smettetela! Smettetela! Salute! Aiuto! 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 Venite! 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 Non potete farlo! Non potete farlo! Fate un errore! Vieni! Schifo! Speriamo! Speriamo che non sia successo niente al colonel! Che... No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, Simon. Sei più in forma, più veloce e più bravo. E forse anche più fortunato, eh? Ah, no, no. Sono io il fortunato a non aver avuto un infarto. Scusa, Tony, ho una visita. Non credi che ho più bisogno di te e delle sue cure? Io posso darti un consiglio. Fatti una doccia fredda. Non ci avevo pensato. Mi spiace disturbarti, Simon. Qual è il tuo problema, Jenny? Si tratta di papà, era molto preoccupato. Lui pensa che Ray lo imbroglie, è convinto che Ray voglia strometterlo dalla società. Perché non denuncia il fatto alla polizia? Lo farebbe se ne fosse sicuro. Ecco perché vuole un tuo consiglio. Jenny, è riservato ai maschi questo spogliatoio. Ma io vedo uomini nudi tutti i giorni. Già, hai ragione. Potrebbe animare un po' l'ambiente, se non ci sbattono fuori. Mi scusi. Le è successo qualcosa? Pollice slogato. Allora, Jenny, cosa devo fare? Vederlo un attimo, dargli un consiglio. Voleva andare al cantiere a parlare con Ray oggi. Ti assicuro, era molto arrabbiato al telefono. Al punto di commettere qualche sciocchezza? Sì. Voleva andare al cantiere. Pensavo avesse lasciato il cantiere per la scorciatoia. La usiamo tutti. La usiamo tutti i giorni. La usiamo tutti i giorni. Here come the same now, watching the same now. I know that you live, all your folks dying. La usiamo tutti i giorni. Dalle prove sembrerebbe che non si possa incriminare nessuno riguardo a questa faccenda. Membri della giuria, volete comunicare il vostro verdetto? Sì, sì. Non l'abbiamo dovuto. Morte accidentale, signor. Grazie. Molto bene. La giuria ritiene che la morte fu dovuta a cause accidentali. Ho dato un'occhiata ad alcune carte di papà. Secondo i suoi calcoli, Ray l'aveva truffato di oltre 100.000 sterline. E i registri della società? Non vi appare neanche come azionista. È solo un consigliere d'amministrazione. Al cantiere lo sapevano tutti che non andavano d'accordo, ma nessuno al processo ha avuto il coraggio di alzarsi e dirlo. Il nostro amico Ray Dennis ha fama di essere uno che non perdona. Non è giusto però che se la cavi così. No, signora Stuart, non se la caverà. Prima ci riprenderemo i soldi di Charlie e poi lo sistemeremo. Posso aiutarti? Jenny, tu sarai assolutamente indispensabile. Allo sai! No, fermi! Fermi, basta. Su, venite qui. Ascolta Rex, tu sei il cattivo, non è vero? Allora quando lo attacchi tu devi ringhiare come un cane. Bravo. Così? Dopotutto rispecchia il tuo nome. Tu Terry invece sei il buono. Fai tenerezza. Tutte le vecchiette devono innamorarsi di te. Bene, riprendiamo dal secondo ramo. Via! Io punto tutto sul buono. Simon! Come stai? Beh, non è sembri tu. Che vuoi che ti dica? Si guadagnano il pane. Tu cosa fai di bello? Hai sentito di Charlie Stewart? Ah sì, terribile. Terribile. La figlia crede che l'abbia ucciso Ray Dennis. Non mi stupirebbe. Ray Dennis è avido di soldi, un affamato. Voglio dare una turchiettina al signor Dennis. Potresti aiutarmi? Simon, sono anni ormai che rigo dritto. Cosa hai detto? Beh, diciamo più o meno dritto. Sammy, se non sbaglio, tu eri il più abile a Londra nel portare via i soldi alla gente. Soltanto a Londra. Ero il più bravo d'Europa. Ero diventato famoso. Dopotutto stai parlando all'uomo che in soli sei giorni riuscì a vendere in Spagna lo stesso albergo a quattro persone diverse. Un colpo di classe. Quanto ti hanno dato? Cinque anni. Ma ho venduto al direttore della prigione delle azioni di una miniera fantasma in Australia prima di uscire. Allora di cos'hai bisogno? Vieni, facciamo due passi. D'accordo. Dove hai la macchina? Dietro l'angolo. Cos'hai in mente di fare, sai? Qualcosa del genere. Lei deve soltanto trovare la regina. Ecco fatto. Quella? Eh già, è cosciuto da ragazzo. Vedi quel tipo dall'aria interessata? Dove è andata a finire questa regina? E il grassone che gli sta vicino? Beh, quello li poto da mettere in mezzo. Forza, proviamo ora. Occhio alla regina, signore. Io appunto ho cinque sterline. Cinque sterline, ecco le mie C in carta. Ah, peccato, signore. Avrei giurato fosse quella. Ehi, aspetti un momento, non è giusto. Lei non dà la possi giocare. Fa troppo in fretta, non riesce a tirare fuori i soldi. Va bene, mi scusi, signore. Ha tutto il tempo che desidera. Può pulare quanto vuole adesso, signore. Ma dà le cose per bene, eh? Su, avanti, giochiamo. Lo incastreranno, semi. Perché troppo è semplice e buonaccione, è il solo che ha la vidità stampata. Eccoci qua ancora una volta. Occhio alla regina, occhio alla regina. Il gioco è fatto. A lei, signore. Allora, voglio puntare venti sterline su quella. D'accordo, venti. Anche il mio amico vuole mettercene venti. Ah, certo, anch'io. Ecco. Ed ecco le mie qualità. Ah, che sfortuna, signori. Dovevate puntare su questa. Vedi, Ray Dennis ha lo stesso sguardo. È uno che si sente male se è costretto a pagare. Anche a lui piacciono le carte. Gioca poker, puntate grosse. Ci giochi mai? Ogni tanto. E Bari? Non ha lo stesso tavolo. Non voglio girare su una sedia a rotelle per tutta la vita. Anche tu sei un ottimo giocatore, non è vero? Chiamami la prossima volta che giocate, e non sono cattolico. E non sono cattolico. Io accusando, signor Dennis. Allora di che si tratta? È la sua marca, vero? L'ho trovato vicino al cadavere del suo socio. Molta gente li fuma. Non fumava il suo socio. Lei è bravo, sa. È un vero genio. È proprio bravo. Chi le dà queste idee? Il nostro schedario di Scotland Yard. È basato sui computer oggigiorno. Non ho niente da dire. Ma se mettiamo un nome nel computer... È sorprendente cosa viene fuori da quella macchina. Ad esempio, una condanna a te anni di carcere per truffa aggravata nel 1961. Un altro nel 66. Innocente. Un buon avvocato. Io sto cercando di dirle, signor Dennis, che lei è molto violento, a quanto pare. Sì, ha ragione. Perciò se ha qualcos'altro da dire, è meglio chiamare il mio avvocato. Così però diventerebbe tutto troppo male, no? Soprattutto se lei non ha niente da temere come asserisce. Il fatto che lei sia qui non è rassicurante e non giova ai miei affari. Affari? Sì, affari. Non stiamo parlando di affari? Quello di cui stiamo parlando, Ray, riguarda la mia coscienza. No. Noi stiamo parlando del fatto che i salari dei poliziotti sono inadeguati al costo della vita. Giusto? Molto inadeguati. Bene così. Avanti. Grazie, cara. Salve, amici. Vi presento il mio amico Sir Malcolm Street. Questo è Ray, il padrone di casa. Molto piacere. Andrew, Harry e Tariq. Dove va? Il mio amico attanta di quella grana da sotterrarci tutti. Sammy mi ha detto che le piace il rischio Sir Malcolm. Solo Malcolm, prego. Già, odia il suo titolo. Si schieda pure qui, tra Harry e me. Bene, grazie, Ray. Sammy gliel'avrà già detto. Non ci sono limiti. Un giro di poker e un giro di telesina a scelta del banco. Andrew, perché non dai a Sam Malcolm... Perché non dai a Malcolm un po' di fish? Con quale posta cominciate di solito? Io in genere ne prendo duemila. Ah, bene. Allora duemila per favore, Andrew. Anche per me, Andrew. Allora, signori, cominciamo questo pocherino. A questo punto sono duemila, Malcolm. Santo cielo, pare che questa non sia la mia serata fortunata. Dovrà darmene altre duemila, Andrew. Bravo, Malcolm. Bisogna insistere. Dalle carte, Sammy. No, Ray, per me basta. Oh, ancora una mano. No, vedi, l'ho promessa a mia moglie. Malcolm, vieni via anche tu. Credo di no. Devo rifarmi un po' prima. È giusto, ha avuto troppa sfortuna finora. Già, e in ogni caso io me la squaglio. Andrew, allora io sono pari, vero? Certo. Malcolm. Va pure, Sammy. Se non vi spiace, io mi trattengo ancora un po'. Per noi è un piacere essere Malcolm. Buonanotte. Notte. Buonanotte. Allora, do le carte io. Allora, do le carte io. Parli, Malcolm. Io passo. Scusate, vado a prendermi da bere. Apro io di 50. Io no. Io vedo le 50 più altre 100. Malcolm, lei ci sta per 150? Sì, sì, per me va bene. Veramente, credo che rilancerò. 300. Che ne direbbe allora di 900? Me ne vado. Penso che questa sia la mano di Sir Malcolm. Anch'io mi sento fortunato, però. Altri mille. Ora sono 1900 per lei, Malcolm. Il gioco si fa pesante, vero? Beh, io ho una gran voglia di vedere. Anch'io. Ecco le mie mille. Bene. Allora, signori. Io due, prego. Due anche per me. A me ne basta una sola. Facciamo duemila sterline. Duemila e cinque. Sono preso tra due fuochi, signori. E sono anche a corto di fish. Credo che possiamo fidarci di una segna di Sir Malcolm. Che ne dici? Certo, se vuole vedere. Molto gentili. Grazie. Duemila e cinque, eh? Facciamo tre, va bene? Il gioco è troppo forte per me. Io me ne vado. La prego di scusa, ma devo rilanciare di nuovo. Altre tre mila. Oh, santo cielo. Mio nonno me lo diceva sempre. Non andare mai a vedere chi ha preso una sola carta. Lei ha preso una sola carta, no? Doveva stare più attento, Malcolm. Sì, una sola. Ma, in fondo mio nonno che ne sapeva della vita. Non vi spiace se vi firmo un altro assegno? Ecco qua. Io vedo. Quattro bei dieci. Beh, è troppo per me, ho paura. Per il mio misero full d'assi. Mi spiace, Malcolm. Sono il grande perdente stasera. Di quanto sono sotto? Diecimila. Non è la mia serata. Forse è meglio che me ne vada. Vi spiace se firmo un assegno? Ma no, niente affatto. Anzi, senta, di a me l'assegno. Pagherò io gli altri. Ho il contante qui a portata di mano. Bene. Ecco qua. A lei. Grazie. E se volesse tentare di rifarsi, non giochiamo quasi tutti i venerdì. Venerdì? Splendido. Ci vediamo allora. Buonanotte. 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 E arrivederci. Così abbiamo incastrato quel ricco babbeo. Diecimila sterline. Avresti dovuto esserci. Sei un giocatore eccezionale. Era in una morsa. Sì? Harry, Pantiquario e io. L'abbiamo annientato. Bravo. Arthur, devo offrire da bere a Sammy per avercelo presentato. Cosa c'è, Sally? Ho portato quell'assegno in banca, signor Dennis. Sì? Hanno detto... Ecco. Conto estinto. Nell'ultimo incontro io l'ho preso da solo... Dove è Sammy? Nel suo ufficio. L'ho preso. Lui resisteva. Ciao, Ray. Lascia perdere. Cos'è questo? Cosa? Il tuo amico. Guarda. Mi ha fregato. Pensi che io rinuncio a una somma simile? Dove abita? Dai, Ray. Aspetta un momento. Gli spezzo le gai. Calma. Ti lasciami parlare un attimo. Non posso credere che il mio amico Sir Malcolm abbia fatto una cosa simile. Ha fatta. Eh, lasciami finire. L'ho presentato io a te. Quindi, per quel che mi riguarda, è colpa mia. Ma non puoi minacciare una persona come Sir Malcolm. Che cosa? No, no, Ray. Senti, sai cosa facciamo? Lo saldo io. Dieci mila? Dieci mila, sì. C'è l'incasso di ieri sera. Non li ho ancora portati in banca. Sono contento di averceli qui. D'accordo. Se vuoi pagare tu i suoi debiti, aspetta un momento. Tu non sei il tipo che dà via così i suoi quattrini, Sammy. Come mai vuoi pagare i suoi debiti? Oh, che importanza ha? Ne ha. Mi interessa. Vedi, mi ha fatto un paio di favori. E cioè? Tu sai chi è Sir Malcolm, no? No. È il segretario generale del Ministero dei Trasporti. Un alto dirigente. Lui che comanda. E tu che c'entri? Eh, te l'ho già detto. Mi ha fatto un paio di favori. Qualche tempo fa organizzai un festival nel castello di Walford, che è Monumento Nazionale. E fu Sir Malcolm a farmi avere il permesso. Un gran bel incasso. Ha fatto molto per me. Quindi, gli devo almeno un favore. Ecco i tuoi soldi, Ray. No. Non è giusto, Sammy. Non voglio i tuoi soldi. Siamo amici. Non è giusto. Dammi l'assegno. No, pago io. L'assegno. Ora chiamalo. Voglio vederlo. Ray. Chiamalo. Potrebbe essere utile anche a me, con un paio di favori. Pronto. Mi passi l'ufficio di Sir Malcolm Street, per favore. Non ne sarà contento, Ray. Neanch'io sono a settimo cielo per il suo assegno a vuoto. Eh, posso parlare con Sir Malcolm, prego. Il signor Giacobus. Anzi. No, no, non fai niente. Richiamerò io. Sì, la ringrazio molto. È uscito. Eh. Dov'è? Io potrei anche sapere dov'è, ma non possiamo disturbarlo adesso, Ray. Sammy, tu non puoi. Io sì. Andiamo. Ci siamo. Eccolo. Che diavolo sta facendo lì? E io che ne so. Sir Malcolm. Ciao. Oh, Gio. Ma cosa fa da queste parti? Sono venuto per l'assegno. A segno? Sì. Oh, Gio. Lo prego di scusarmi tanto. Scusarla? Ci vuole ben altro che delle scuse. Non è una cosa che al primo ministro farebbe piacere, credo? No, è probabile di no. Comunque dovrà avere ancora un po' di pazienza, Ray. Io non ho molta pazienza. Vuoi rirmi? Sto solo parlando. Sì, ma ho altre faccende a cui pensare in questo momento. E cioè? Sbarazzarmi di Tower Bridge, ad esempio. Cosa? Sembra che qualcuno abbia intenzione di comprare il ponte e trasportarlo in America. Questo ponte? Un bel lavoro. Verrà a costare una fortuna. E lei come lo sa? Perché ho appunto un'impresa di demolizione. Ma davvero? È molto interessante. Perché non ne riparliamo uno di questi giorni? Che ne dici? A presto. Che ne dici? Ray, ma non vuoi piombare così nel suo... Perché no? Ha un debito con me. Tutto bene? Sir Malcolm è uscito da oltre un'ora e mezza ormai. Può tornare da un momento all'altro. Salve, Sir Malcolm. Signor Dennis, lei è un tipo davvero ostinato. Specie quando si tratta di denaro. Ecco il mio biglietto di visita. RD demolizioni. Va bene. Ho forse bisogno di lei? Se vuol buttare giù Tower Bridge, sì. Signor Dennis, la cosa dovrebbe restare segreta. Chi è il tipo con cui l'ho vista? Un signore americano. Pare che possieda mezza Arizona. O Nevada, forse. Il vecchio ponte non ci serve più. Sembra che loro vogliano utilizzarlo come attrazione turistica. Già. Fecero la stessa cosa col ponte di Londra, no? Bella impresa. Oh, straordinaria. Penso proprio che sia il caso di riparlarne. Attendo una sua telefonata. Sì, la ringrazio molto, Sir Malcolm. A presto. Arrivederci. Ecco Sir Malcolm Street. Sei sicuro che sia Malcolm? Sir, mi l'ho assistito durante un'operazione. Cose del genere non si dimenticano. È un lavoro che potrebbe fare la mia società. Street, chi è? Sì, signor ministro, le porto subito i documenti. Affari di governo, mi scusi. Non ho ancora finito. Mi vuole il ministro, signor Dennis. Non vorrà che perda il posto proprio ora, no? Aspetti, lei mi deve un favore. Voglio saperne di più su quest'affare di Tower Bridge. Ma certo, perché no? Ma temo che le verrà a costare molto più di diecimila sterline. Prego. Buongiorno, signore. Buongiorno. Credo sia meglio che lei scenda di lì. Arrivederci. Dopo di lei. E allora? È andata bene, Sammy. Bene. Devi fissarmi un appuntamento con lui. Ok. Già. Credo che io e Sir Malcolm stiamo per diventare soci in affari. Sempre che l'amico non voglia fare il furbo. Altrimenti dovrà consolarsi con un bel funerale di stato. Dopo adeguata riflessione, riteniamo che l'offerta fatta dalla RD demolizioni SPA sia accettabile. E le suggeriamo... No, va piano, Simon. Io posso farti il bagno a letto o una trasfusione di sangue, ma battere a macchina non è compito di un'infermiera. Parliamo dopo del bagno a letto. Dove eravamo rimasti? Accettabile. Non il bagno, la lettera. Ah, peccato. Allora, accettabile. E le suggeriamo, 2G, un incontro a breve scadenza con i suoi legali per accortarci sulle clausole del contratto. Punto. E a capo. Non devi scriverlo, Jenny. Devi solo andare a capo. Ah, mi hai fermato appena in tempo. Perciò è pregato di telefonare alla mia segretaria al 2070614 per fissare un appuntamento tra noi nel più breve tempo possibile. Distinti saluti, Malcolm Street. Speriamo funzioni. Funzionerà. Cosa te lo fa credere? L'espressione dei suoi occhi. È un avido, Jenny. Quando ho visto il suo sguardo dopo la vincita, allora ho capito che avrebbe funzionato. Guarda l'espressione dei miei occhi. Avidità? Non sarà lussuria, signor Templar? Fame. Vieni, ti porto a cena. Ora però devi sbrigartela da solo. Cosa vuoi dire? Ti ho fissato l'appuntamento, ma tu stai esagerando. Io non voglio più saperne. Perché, Harris? Ma è ovvio. Vorresti incontrarlo nel suo ufficio? Buona fortuna. Sammy. Cosa? Se le cose ingranano, tu sarai a cavallo, ok? Grazie. Ma se qualcosa andasse storto, non vorrei essere nei tuoi panni. Quello è un vero gentiluomo, Ray. E' aperto, avanti. Champagne, signor Dennis? Perché no? Queste stanze non le ho prenotate a nome mio. Per non destare sospetti, ho dato il suo nome. Pagherà lei il conto. C'è del caviale, se vuol gradire. E' molto generoso, Sir Malcolm. Riteniamo che questo lavoro di demolizione si aggirerà sui due milioni. Si accomodi, signor Dennis. Il contratto con il signor Wepner non è stato firmato. Potrebbero farsi avanti altri compratori. Ovviamente la faccenda avrà una grossa pubblicità. E la gara resta aperta ad altre offerte. Quel che io posso darle, signor Dennis? E' la garanzia che lei riuscirà a conoscere l'offerta dei suoi concorrenti prima che lei faccia la sua. Da lei però vorrei sapere cosa ci guadagno io. Un assegno a vuoto. Permette? In un affare di circa due milioni di sterline, il mio prezzo è molto più alto di questo. Il cinque per mille è una cifra ragionevole, no? In contanti. In broglione! Beh, così siamo in due. Tenga, la legga. La lettera sarà sul suo tavolo non appena lei avrà fatto la sua offerta. Sempre che abbia pagato la mia commissione. Lei mi deve dei soldi e io dovrei darle centomila sterline. Beh, potrà sempre rivincerle a poker, non le pare? Non sono un imbecille. No, mio caro Dennis. Lei è solo l'amministratore di una società che ha un disperato bisogno di due milioni di sterline. Ho fatto delle indagini, la sua società non naviga in buone acque, ho sbaglio. E questo che significa? Ci sono società ben più importanti che pagherebbero la tangente. E con loro non ho nemmeno debiti di luogo dall'altro. Non le spiace, vero? Per carità. E questo americano, come faccio a sapere che ci sta? Harley. Immagino che vorrà una percentuale anche da lui, no? Ma Wepner si rende conto che non si tratta di un ponte qualsiasi. È un pezzo di storia inglese. Che somma ha preteso da lui? Ascolti, lei e Wepner siete ormai della partita. Se si intromettesse altra gente, io potrei restare all'asciutto. Anche lei ha bisogno di noi. Siamo legati tutti e tre allo stesso carro. Dov'è un'occhiata a quella lettera. Ok. Dove trovo Wepner? Allora, signor Wepner, secondo i miei calcoli ci vogliono sei mesi. È davvero un bel ponte. Dove volete trasportarlo? Nel mezzo del deserto, vicino a Las Vegas. Ma lì non c'è acqua. Ah, stiamo costruendo un lago, una città. Diventerà la capitale del gioco d'azzardo del mondo. Se otterremo il ponte, la chiameremo Tower Bridge. Ah, bell'idea. Originale. Naturalmente molta gente vorrebbe che il ponte restasse in questo paese. E allora? Quello che sto cercando di dirle è che io posso garantirle la consegna. Ma mi costerà dei quattrini, è così? Sì. Verrà a costarle circa 160.000 dollari. I tipi per cui io lavoro, se qualcuno li fa arrabbiare, diventano molto cattivi. Sono io che garantisco a lei la consegna. È sicuro di questo? L'affare dovrebbe essere concluso entro mercoledì. Ma lei dovrebbe decidere. Adesso. Io le do un assegno circolare della banca del Nevada. Ci scrivo sopra la data di mercoledì. Darò ordine che venga accreditato su una banca di Londra mercoledì prossimo. Verrà pagato in contanti. Ma... Niente merce, niente soldi. Ok. Volevo solo dirla, eh. Hai il portodarmi per quella? No. Perché? Accetto un consiglio da amico. Se vai in giro per Londra con quella, stia attento. Ray, permetta che le dica una cosa. Quando io ho la pistola, sono sempre gli altri che devono stare attenti. L'hai visto? Bene. Quando esce di lì voglio che sia pedinato, Sir Malcolm Street. Voglio sapere dove abita il suo numero di telefono privato. E inserisci tutti i suoi dati nel computer che avete a Scott Magliar. Qualsiasi cosa, avvertimi. Che ci guadagno io? Non essere ingordo, ispettore. Ti sto trattando bene. Usufruire del tempo della polizia costa caro. E poi dicono che abbiamo la polizia migliore del mondo. D'accordo. Avrai un premio. D'accordo. Oh cielo, qualcuno qui deve essere sfuggito agli agenti delle imposte. Qualche piccolo risparmio per la vecchiaia. Non si fida di nessuno, eh? Legittima difesa. Ha la lettera? Sì, ma gliela spedirò. Me la dia. Sì. È molto fotogenico. Guardi com'è bello, Sir Malcolm. Il primo ministro ne sarebbe entusiasta. Anche l'ispettore del fisco, signor Dennis. Anche l'ispettore del fisco. Quanto la pena di que every giorno è andata. Quanto la pena di trovare le impostasi. Sei lì? Dica signor Dennis Mi faccia sei fotocopie di questa? Sì signor Dennis Aspetti Che hai saputo? Parecchie cose L'uomo che ho pedinato Non è Sir Malcolm Street Cosa? E c'è di più C'è un gran bel dossier a Scotland Yard Alla lettera T per Templar Simon Templar Lo chiamano il santo Ray Cosa è successo eh? Non ho più saputo niente da quel Sir Malcolm Non devi preoccuparti Guarda Ho la lettera Ah grazie tante Tu ce l'hai ma io non l'ho avuta Chissà potrebbe essere arrivata Me lo auguro Il mio assegno è incassabile a partire da mezzanotte e ora del nevada Domattina quindi avrai il denaro Ma avrai sicuramente ben altro caro mio se quest'affare va a rotoli No Non c'è da preoccuparsi Niente paura Ok Tanti auguri Lasciala Ray Dove diavolo è? Lasciala ho detto Volevi arrestare qualcuno no? Il santo mi ha fregato dei soldi E lei è d'accordo con lui Su brava parla Dov'è? Io non lo so Nessuno mi ha mai trattato da scemo E sai perché? Perché sono capace di tutto Questo lo so bene Fai ancora l'infermiera? E' più che altro una vocazione vero? Non è solo un lavoro Scommetto che vedi cose tremende in ospedale Da far spavento Cose davvero terrificanti Quanto ti ci vorrà per rimediare a quello che farò adesso alla tua faccia? Dei mesi? Forse non basteranno Una bella ragazza come te L'ultima volta Dov'è? E' con Sammy E i miei soldi? Io non lo so È la verità Credo che li abbia ancora Simon Tanto meglio per lui Ragazzi non dimenticate Stasera c'è la televisione Capito? Dovete far spettacolo Dovete darci dentro Chiaro? Io voglio da voi Charlton Heston Contro Sir John Gelgold Oh salve Siete venuti per l'incontro Sono venuto a strangolarti Sammy Perché? Cosa ho fatto? Sono venuto a strangolare Te e il tuo amico Templar Perché non ti volte di qua Raymond? Allora? Volevi forse dirmi qualcosa? Ti do dieci secondi per restituirmi i soldi Mi dispiace ma non è possibile Sono destinati a una causa migliore Ai parenti dell'uomo che hai ucciso Sentirei come buono il mangiare in prigione Templar Ti daranno almeno dieci anni Arrestalo Lo vuoi sul serio? Potrebbe risarci Basta con i giochetti Io non scherzo Va bene ispettore Andiamo Comincio ad annoiarmi Ecco qua Un bel viaggio in prima classe Non vogliamo rovinare la sua fama Un momento Ho deciso che non voglio più sporgere denuncia Non fare l'idiota Gli do l'ultima occasione per regolare i conti Prima di rinchiuderlo in una vara Sali Guidi tu Ray Usa il cervello In gabbia costui non vale più un centesimo Non appena il signor Templar sarà solo con me Non vedrà l'ora di restituirmi quei soldi Andiamo Non preoccuparti Andrà tutto liscio come l'olio Ma tu ricordati bene Sei sul libro paga Sei una cosa Ray Oltre che avido sei anche stupido Se mi uccidi cosa ottieni Va dritto Non è la tua mano perché non getti le carte Sputa fuori quei soldi Non contarci E inoltre penso che tu non premerai quel grilletto E sai perché? I testimoni Ray D'accordo Ammettiamo che tu abbia in tasca l'ispettore Ashton Ma ci sono gli altri C'è Sammy ad esempio Vedrai che si faranno sentire Non mi hanno preso quando ho ucciso il povero Charlie E non mi prenderanno ora Se continui a fare il furbo ti seppellirò nello stesso posto Al semaforo a sinistra Poi a destra Allora il tempo stringe amico O paghi o crepi Voglio rischiare perché non credo che ne avrai il coraggio Allora? Pensavo di averti già risposto Oltre che scemo sei anche sordo Scendi Ti ho detto scendi Allora 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dovevi uccidermi. Perché ti prenderò. Ti prenderò. L'unica cosa che prenderai è una bella condanna all'ergastolo. Ha sentito tutto, ispettore? Tutto, Simon. La confessione, gli imbrogli, registrato tutto. Bene. Le consegnerò il suo uomo appena si riprenderà dallo shock. Sei un... Volevo dirti... Sentirai com'è cattivo il mangiare in prigione. Beh, l'unico che manca è Ray Dennis. E sono sicuro che mancherà per un bel po' di tempo. Io e la mamma vorremmo ringraziarvi tutti. Non c'è di che. Il tuo padre era nostro amico. A proposito, come è andato a finire quell'assegno della cosera? La banca del Nevada, mi pare. Ray si arrabbiò molto per quell'assegno. Tentò di incassarlo. Non ci riuscì, naturalmente. Però riuscì a darmi un'accurata descrizione dell'americano che glielo aveva rifilato. Sono serio? E ti si adatta alla perfezione. Bass Wepner. Ma... Scusa un attimo. Vediamo un po', ispettore. Ho qui un passaporto che dice che sono Charles Oslow. E ne ho uno che dice John McFagan. E ne ho un altro che dice James Andrew Vaughn. Ma mi spiace, non ho niente qui col nome di Bass Wepner. Guarda un po' che bel ponte. Hai ragione. È straordinariamente bello. Sono contento che non l'abbiano venduto. Now you've gone so far away And I'm alone again Thinking how it used to be And will it begin It's just my heart Listen, my heart Feeling blue People tell me I'm a fool I never should have tried To get your love To win your heart To want you by my side But love wins all So they say So they say I guess it's time to cry I lost the game I lost the match And now I'm wondering why It's just my heart It's just my heart Listen, my heart It's just my heart Feeling blue And then I feel you And then I feel you Running close beside me Like you used to do A face, a smile, a breath of your perfume You're here beside me You're here beside me I can feel you When will you come back to me To say the word And you can set me free It's just my heart Listen, my heart It's just my heart Feeling blue So I say my heart will mend Roma, la città dei sette colli Il punto dove si incontrano tutte le strade del mondo Qualcuno una volta ha detto che se Roma cadesse L'intero mondo cadrebbe Ma Roma è ancora qui Certo, le cose sono un po' cambiate dal tempo dei Cesari Una sola cosa non cambia mai Le donne arrivano sempre in ritardo Simon! Salve! Michelle, non dimenticare che sono fatto di carne Sono così felice, è passato tanto tempo Due anni Beh, ora non ho intenzione di perdere nemmeno un minuto Avevi qualche altro programma? Annullalo! Voglio visitare tutte le bellezze storiche di Roma Il Foro, la Fontana di Trevi, il Vaticano, San Pietro E poi tutte le gallerie, i musei e le chiese Per me va bene, ma pensavo che fossi venuta a fare dei concerti Non sai che in questi ultimi due mesi ho cantato a Madrid, Parigi e Venezia? Ma ti giuro che non ho visto altro che camere d'albergo e teatro Ma questo non accadrà a Roma Qui voglio divertirmi Su, andiamo A contatto che durerà questa orgia di turismo, potrai crollare Tutto il tempo necessario per dimenticare i festival pop Gli studi di registrazione, i concerti e il rock Ho preparato un bel programma A inizio qui Uno spettacolo tra dieci minuti Questa è la prima cosa in programma Mi stavate pedinando? Michelle, cara Ricordi che Bruno t'ha proibito di uscire senza loro due? I miei angeli custodi Sì, servono a proteggerla Ora andiamo, altrimenti farai tanti Andate all'inferno Questa sera inauguri la stagione a Caracalla Avanti da brava, va con Enrico e Paolo Porterò io la tua macchina Michelle e io stiamo andando a cena Ma allora dovrà scegliere un altro giorno Ha ragione, Simon Devo andare Purtroppo non riuscirò a vedere neanche Roma Rimandiamo a domani? Perché non lo chiedi a Diamond? È lei che mi organizza le giornate Michelle sarà impegnata in spettacoli e registrazioni Per tutto il periodo che resteremo qui a Roma Mi spiace, Simon Ma... Grazie lo stesso Ho assaporato qualche attimo di libertà Da quando conosci Michelle? Aveva appena compiuto 15 anni Oh, magnifico Questo la fa sentire tanto zio Ma con me non attacca E la sua parte è quella della matrigna? Sono la sua manager E tra i miei compiti c'è quello di proteggerla Lo fa tenendo la prigioniera? Senta, non è un consiglio, è un ordine Non sprechi il suo tempo Michelle è molto impegnata Preferirei che non mi costringesse a chiedere a quei due signori Di pestarle ben bene quel suo incantevole musino Che ne dice? Sono stata abbastanza chiara? Il tono era deciso A proposito Dica a quei signori con chi avranno a che fare Mi chiamo Templer Simon Templer Il tono era deciso Dica a quei signori con chi avranno a che fare Il tono era deciso It's just to sing Dingga di teasing Dingga di teasing I'm gonna sit at home To watch a program when it's on And see you're driving your car Around like mad around the town Without the growl Everyone has a dream It must be just the way you are It comes the same now Watching the same now I know that you'll live on the full sky and dry Thank you Allora, cosa c'è, Michelle? Non ho intenzione di cantare stasera. Hai sentito? Ho detto che non canto. D'accordo, ho capito. Ora cerca di calmarti. Di pure a Bruno che annulli il concerto. Beh, vediamo cosa possiamo fare, eh. Sarà una grande serata. Perché non prendi un paio di queste? Non funziona, Diamond. Non mi manderà in palcoscenico drogata. Oh, non ti darei mai niente del genere, tesoro. Questo è solo per calmarti i nervi. I nervi! Credi che sia nervosa? Dopo quattro anni... Diamond, io sono stanca. Stanca della musica, della folla, degli ammiratori, dei giornalisti. Cara... Tutto fila a meraviglia. C'è un pienone là fuori. Sarà una magnifica serata. Come va, Michelle? Michelle non si sente bene. Teme di non poter cantare. Ah, su serio? A me non sembra malata. Dalle qualche pillola. Ho deciso che non prenderò più pillole, Bruno. Ora è meglio che annulli il concerto. Ascolta. Tesorino. Cosa ti prende? Hai deciso di fare i capricci? Beh, ti consiglio di aspettare domani. Ma stasera devi cantare. Cantare come un uccellino. Perché i tuoi ammiratori ti aspettano. Sono il tuo pubblico. Hanno pagato centomila dollari per sentirti cantare. E canterai. Non ti resta che rimborsare i centomila dollari. Ehi, dico. Hai diventata matta. Tu non puoi obbligarmi a cantare. Oh, davvero? Hai firmato un contratto. Ricordi, hai idea di quanti soldi mi devi? Senti. Lascia che me la sbrighi io con lei, eh? No, no. Io credo che sia arrivato il momento di mettere le carte in tavola. Mi devi settecentocinquantamila dollari. C'è un contratto tra noi e tu lo rispetterai. Bruno, Bruno! Perché non vai a dare un'occhiata a quanto ammontano gli incassi giù al botteghino e lasci che mi occupi io della faccenda? Ok. Ok, Diamond, ma fido a te. E non dimenticare che ti pago io. Bene. Hai esattamente cinque minuti per convincere la nostra grande star a salire sul palcoscenico. Coraggio, diamo inizio allo spettacolo. Digli che cominci da suonare. Adesso la sistemo io. Lasciala stare. Si è convinta. Stiamo andando. Adesso la visione. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Lei ami la musica pop, cosa c'è qui intorno che attira l'attenzione del più bravo ispettore di Roma? Lei sembra sia l'unico ad ignorare che nelle ultime 24 ore Michelle ha ricevuto ben tre minacce di rapimento Coraggio Per l'amor del cielo sta zitta Andrà tutto bene caro T'ho detto di piantarla Bruno È un'isterica Andrà in pace Bruno Non di cosa si piccola? Reagisco sempre così quando incontro uomini che picchiano ragazze indifese Michelle Michelle No Michelle Prendiamo la mia macchina Guido io Portami a casa Simon Ora sto bene, grazie Cos'è successo? Una stella filante è diventata una stella cadente Sono finita Queste pillole sono tue? Sono la mia salvezza Michelle, ingoia una dozzina di queste e sei finita davvero? Sì Voglio buttarle giù con un'intera bottiglia di vino Così sarò libera Così sarai morta E cosa stavo dicendo? Ok Tu sei esaurita Diamond e Bruno ti hanno fatto lavorare troppo Ma queste non ti servono Prenditi qualche mese di vacanza Puoi permetterte Simon, non posso permettermi neanche di offrirti un caffè Michelle, in questi due anni sei stata dieci volte prima in classifica Bruno mi paga 500 dollari la settimana Esattamente quanto mi dava quando mi ha assunto Ho un contratto di 7 anni Sì, ma allora... Gli appartamenti La servitù Tutti questi lussi da gran vita Li paga Bruno Io ero convinta che pagasse con i miei guadagni Ma non è così Ho un debito di 750.000 dollari Per questo continuo a lavorare E più lavoro Più continuo a spendere E più cresce il debito con lui È un circolo vizioso Questa è l'unica via d'uscita Non dire sciocchezze Dobbiamo trovare una soluzione Ma non c'è altra soluzione Sai, ho intenzione di dare seri fastidi a quel signor Bruno Walters Simon, so già che non ci riuscirai Vuoi lasciarmi provare? Nel frattempo queste le tengo io E adesso ragazzina Fila subito a letto Sì Chiami questo numero a New York, prego Harry, sei sicuro? Credimi, quella ragazza è legata con un nodo che neppure Odini potrebbe sciogliere Ok, Harry, buonanotte e grazie Cosa? Hai ragione Buon pomeriggio Non si è ancora tolto dai piedi? Ora sta dormendo ma è meglio non lasciarla sola Questo è compito mio Comunque Grazie per ciò che ha fatto Bruno, come avrà già notato, fa presto ad andare in collera Ma se Michelle sta a cuore la lasci in pace L'ultima cosa di cui ha bisogno è un uomo Senta un po', Diamond Lei ha mai avuto bisogno di un uomo? Non sia invadente, la prego Vuol dirmi i giri a largo? Michelle è proprietà privata, vero? Ah sì, ed è di gran valore questa proprietà Banco suivi, banco 2 milioni Banco Voilà, monsieur Grazie molto Banco demandé A voi, monsieur E per quell'uomo? Me ne occuperò io domattina Ora sto vincendo, non lo vedi? Aspettare ancora è pericoloso Vuoi saperne una sui santi? Sono tutti morti Banco Venga con me, signor Templar Si tratta di una cosa urgente Vieni come fate Fuori Guardate Tutti Signor Templar, penso che lei sappia già chi sono, vero? Beh, devo ammettere che non è la prima volta che sono ospite della sua confraternita. Dì un'occhiata, signor Templar. Gli antichi romani avevano un loro modo di trattare i traditori e i piantagrana. Li buttavano giù vivi da questo dirupo. Si chiama Ruppet Arpea. Sono stato abbastanza chiaro? No, signore, affatto. Le spiacerebbe spiegarmi cosa ho fatto per infastidire la sua confraternita? Io mi interesso di una certa signorina e non mi piace che se ne interessi anche lei. Ultimamente è stato visto troppo spesso con questa ragazza. Per caso sto intralciando i suoi piani? Ne ho uno anche per lei, signor Templar. Un bel volo a New York. Ah, il suo biglietto, prego. Non è la stagione migliore per visitare New York. Fa troppo caldo. L'alternativa la conosce. Ha lei la scelta? Eh, va bene. Quando si è a Roma si fa quello che fanno i romani. E io da buon inglese sono pronta ad adeguarmi. È intelligente. Ah, ne le consiglio di fare una lunga vacanza a New York. Arrivederci. Noi, come va bene. Noi, vai bene. Noi. Noi. Noi, Noi, Nstres. Noi, Nostra. Noni, Nostra. Come va, Belardo? Simon. Vedo che nascondi i tuoi disonesti guadagni sempre al solito posto. Stai cercando di farmi venire un infarto? No, un lavoro da proporti. Per te e i tuoi amici. No, il tuo lavoro non mi interessa. Sono un onesto cittadino ormai, un uomo d'affari, riparo auto. E nascondi onestamente i gioielli di famiglia. Coraggio, ci stai o no? Per un vecchio amico e per un bel mucchio di soldi. Senti, dobbiamo andare. Ho quasi finito. Michelle? Siamo già in ritardo. Sei pronta? Cosa c'è? Siamo gli agenti Morello e Chianese. Ah già, il commissario Petrucci sostiene che è più prudente avere una scorta. Noi abbiamo un'auto, corrazzata. Oh, bene. Vengono anche i miei uomini. Beh, così. Ora sono quattro. Meglio usare il montacarichi. Mi fa piacere che l'ispettore di polizia prenda sul serio le minacce di rapimento. Sì, anche a me. Il commissariato, prego. Ma che sta dicendo, commissario? I suoi due uomini erano qui un minuto fa. Sono appena usciti con la ragazza. Come? Vengono. 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 Mio Dio, Bruno, ce l'hanno rapita. Ma sei tu, Simon? Cosa? Scusa, ma non ho capito niente. Simon! Eh sì, la mascherata è servita a rendere la cosa più credibile. Ma perché tutto questo? È la soluzione che ti ho promessa. Ma come hai fatto? Eh, non è stato tanto difficile, sai. Ieri sera, dopo aver controllato il tuo programma, ho telefonato a Bruno fingendo di essere Petrucci. Poi ho preso un paio di uniformi a Nolo e ci ho messo dentro due miei amici. Credo che questo sia il colpo più grande fatto a Roma dai tempi di Giulio Cesare. È un delito politico? Di lui scatola, l'hanno già chiesto. Potrebbe dirci qualcosa? Se io vengo, Antonio mi impedisce di fare dichiarazione. Sarete informati appena sapremo di più sullo sviluppo delle indagini. Un momento, un momento. Vi prego. Ci dica almeno che ho visto a parte. Prego, signor Lotto. Qualche particolare dichiarazione. Hanno richiesto il rispetto. Ma signor Lotto. Ha diritto di sapere. Signor Volter, che pensate, non so niente. Non so niente, lasciate provare. Non so niente, signor Volter. No comment, signor Volter. Beh, amici, a quanto pare abbiamo causato un po' di trambusto. Direi un bel po', vecchio mio. Spero che saprai come uscirne. Lo spero anch'io. Cosa c'è, Marcello? Non ti senti bene? Si trattava di un lavoretto, vero? Una star della musica pop. Figurati, Roma sarà piena di poliziotti. E mi chiedi se mi sento bene. Sto per avere un attacco di FIFA. Marcello è un po' fifone e beve troppo. Ma ha ragione. Roma è diventata molto pericolosa per noi. Sudami i miei soldi, Simon. Ce ne andremo subito in vacanza. Una lunghissima vacanza. Bene, auguro a tutti e due buon divertimento. Coraggio, Marcello. A quando metterai il cervello a posto, Simon? Sei sicuro che puoi fidarti di loro? Abelardo è un vecchio amico. Marcello mi dà da pensare. Ma non importa, cambieremo aria. Ma incontreremo certo blocchi stradali. La strada non è lunga. Oh, è magnifico. Quando rapisco qualcuno, mi piace farlo con stile. Che posto sarebbe? La villa di un papa? È di un mio amico. Lui preferisce le spiagge di Saint-Tropez a questo splendore. Beh, qui la polizia non verrà a cercarmi. Sì, ma speriamo che non venga qualcun altro. Andiamo. Questi li hai visti? O vuoi dirmi che non sai leggere? Rapita proprio qui, a Roma. Nella mia città. La ragazza è mia, la voglio. Cercala e fa alla svelta. Non ci credo, non posso crederci. Larry dice che abbiamo venduto 500.000 copie del suo ultimo 45 G. E questo ti fa impazzire, naturalmente. Ehi, ehi, ma cosa stai insinuando, piccolo? Non capisci. Questa pubblicità ci fa bene. Hai pensato un solo attimo a cosa potrebbe esserle accaduto? Forse è già morta. Oh, ma tu sei troppo occupato a sfruttare la storia del rapimento. Petrucci dice che è un rapimento a scopo di lucro. La riavremo. Sta tranquillo. Basterà pagare. E da come vanno le cose, penso che me lo potrò permettere. A volte ho l'impressione che tu sia l'essere più disgustoso che abbia mai conosciuto in tutta la vita. E da come vanno le cose, penso che abbia mai conosciuto in tutta la vita. Mi passi il signor Bruno Walters, per favore? Signor Walters, mi ascolti attentamente, non mi ripeterò. Riavere la ragazza le costerà un milione di dollari. Tutti in biglietti da cento euro. Tra breve avrà istruzioni per la consegna. Ora ascolti. Cerca di essere convincente. Bruno? Sì, sta a sentire. Fanno sul serio, capito? Hanno detto che mi uccideranno. Lo faranno veramente se non paghi? Perfetto. Per un milione di dollari. Beh, settecentocinquantamila dollari te li deve già. Poi ci sono gli interessi. Vabbè, le mie spese, naturalmente. E così saremo pari. A quanto sembra è proprio un rapimento. Può localizzarli? In mezzo minuto? No, niente da fare. Allora pagheremo, faremo quello che chiedono. Le ho già detto che il consiglio della polizia è di ignorare qualsiasi richiesta. Ah, beh. Se ce lo consigliate voi, allora... Bruno, se non pagherai, io ti giuro che dirò a tutta quella gente che sei stato tu a farla rapire per spingere i fans a comprare i suoi dischi. E chiede un milione di dollari. Il signor Templar è un uomo molto avido. Templar? Ho parlato con i nostri a New York. Il signor Templar non è mai arrivato. E non è neppure salito su quell'aereo. Cercatelo. Ecco le istruzioni per il pagamento. Sono state consegnate... Ora. Vogliono che vada io. Bene, allora ci andrei tu. Ma ascoltami bene, Bruno. Niente trucchi. Oh, dai, Abon. Io rivolgo la piccola Michelle sana e salva quanto lo desideri tu. Beh, sono molto contenta di sentirtelo dire. Simon, sii prudente. Se ti mettono in trappola, io... Stai tranquilla, Michelle. E ricordati che tra circa un'ora tu sarai libera. Ridarai i soldi a Bruno e straccerai quell'assurdo contratto. Viva la piccola mirata. Ok. Viva la piccola professione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Michel! 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 Buongiorno signora, c'è Marcello? No, l'hanno portato all'ospedale All'ospedale? Sì, per via del cuore signore, ha avuto un infarto Capisco, mi dispiace Senta, è molto importante, quando ha avuto questo infarto? È successo ieri, era andato al lavoro E quando è tornato, gli ho dato il solito bicchier di vino Poi, tutto ad un tratto, è caduto giù come se fosse morto E adesso è ancora in coma Sa dirmi niente del suo amico di nome Abelardo? Amico, dice, quell'uomo è un criminale Sì, ne sono convinto di tutto È proprio un criminale Abelardo 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 Spiacente, ma ho dovuto farlo. E ora facciamo un giletto, d'accordo? Prendiamo una boccata d'aria. Dire un'occhiata. La rupe tarpea, ricorda? Alcuni giorni fa lei mi ha spiegato come la usavano i romani. È curioso come la storia si ripeta, non è vero? Signor Templar, da circa cinque ore è scaduto il nostro patto, lo sa? Bene, allora salga sul muro, così ne parleremo comodamente. Ecco, ora va meglio. Adesso nel suo interesse mi dica nel più breve tempo possibile dove ha portato Michelle. Cosa le fa credere che io sappia dove è Michelle? È stato lei a rapirla. Sì, l'ho persa. È con lei un milione di dollari. Non immaginavo che Abelardo fosse uno dei suoi uomini. Abelardo è un semplice ladruncolo, non è dei miei. Senta, l'ho trovato quasi morto. C'era il marchio tipico della sua confraternita, testa rotta e braccia spezzate. Come mai? Io non so niente di questo Abelardo e nemmeno della ragazza. Allora perché i suoi uomini la pedinano da quando è arrivata a Roma? Per chiederle l'autografo? Per proteggerla. Quella ragazza è mia figlia. Non mi risulta che Michelle l'abbia mai vista. Sì, almeno una volta. Il giorno che è venuta alla luce. In quello stesso giorno hanno ucciso il mio primo genito. L'ho uccise l'uomo che era capo dell'organizzazione che ora è mia. Sua madre era la mia seconda moglie. Quando compì tre settimane la mandai in America. La feci adottare. Un nuovo paese, un nuovo nome. Così i miei nemici non l'avrebbero mai trovata. Nei l'avrebbero mai usata contro di me come fecero col mio primo figlio. L'ho vista crescere. E l'ho vista diventare ciò che è. E sono molto orgoglioso. È l'unica cosa che ho al mondo. Ma se non l'ha rapita lei, chi l'ha fatto? Questo signore dovrà scoprirlo lei. Ed ha esattamente dodici ore per ritrovarla. Trascorso questo tempo, la sua vita non varrà più un soldo bucato. Un momento. Noi lottiamo per la stessa causa. No, signor Templar. Lei è il responsabile del rapimento. E quindi, se non vi porrà subito rimedio, col mio più immenso e sviscerato piacere, la farò uccidere. Ah, un'altra cosa, signor Templar. Se trova Michelle e si lascia scappare una sola parola di ciò che le ho appena detto, stia sicuro che le resteranno poche ore da vivere. e si lascia scappare una sola parola di ciò che le stia. Pronto? Sì, sono io Senta, per ora non posso dirle altro Ci sarà un comunicato stampa domani mattina Sì, tutti speriamo che sia ancora viva Ti prego, signore Cosa ci fa lei qui? Sto facendo una ricerca sui diamanti Diamond Senta, questo non è certo il momento di scherzare, sa? I diamanti sono conosciuti come la materia più dura al mondo E lei? Di solito la gente crede che i diamanti durino eternamente Lo sapeva? Beh, questo diamante non durerà certo in eterno E questa sarebbe la ragione che l'ha spinta a restare in silenzio Mentre Bruno rubava a Michelle 750.000 dollari Pagandola 500 dollari la settimana Mentre lui incassava una fortuna Forse le interesserà sapere che io sono pagata 400 dollari la settimana Allora perché resta con me? Sono rimasta per Michelle Senza di me Bruno l'avrebbe già distrutta Comincio a credermi Penso che lei voglia bene a Michelle Sa cosa penso io? Che è ora che la finisca di provocarmi, capito? Io sono esausta! Senta, mi sopporti ancora per un momento Lei vuol sapere chi ha rapito Michelle, vero? Beh, sono stato io Per poter riscattare il suo contratto Un milione di dollari Questo è lo scherzo più nauseante, più volgare che... Ma un momento, se è così Bruno sarà ripagato con la sua stessa moneta! Già, ma questo era prima Sfortunatamente Bruno ha già riavuto il suo denaro E credo anche Michelle Bruno ha riavuto Michelle? Sì, uno dei miei uomini ha deciso di tradirmi E lui l'ha pagato con questi Ne è sicuro? Provengono dalla stessa banca del denaro del riscatto Ed è la banca di Bruno Ho bisogno di bere qualcosa? Sì, Templer? So chi ha rapito Michelle, ma non so dove si trova Ho bisogno del suo aiuto Ma ci vorranno più di 24 ore Mi ascolti, signor Templer Io non posso risponderle che una cosa Lei non ha 24 ore Ma ne ha molte di meno Beh, questo suo amico è davvero una persona comprensiva Sì, e ha un debole per i bambini Beh, vuol dire che dovremo trovare Michelle molto alla svelta Mi restano solo poche ore da vivere Simon, come sei il suo amico Belardo? Non ho potuto vederlo, è morto Ma allora come faremo a trovare Michelle? Non la cercheremo, lasceremo che sia Bruno a farlo per noi È meglio che te lo dica subito Sì, è vera È carica E tra meno di un minuto Ti sparerò un colpo nel cervello Ok Sei stata chiara Cosa vuoi? A Belardo è morto, è vero Ma i tuoi uomini sono stati un po' distratti Mentre lo picchiavano gli hanno detto dov'era prigioniera Michelle E prima di morire A Belardo ce lo ha rivelato Pensando di salvare in estremis la sua anima non troppo pulita Tu menti, piccola Questo è soltanto un misero trucchetto Avanti, dimmi quanto vuoi Oh, ti costerà un po' Sì, potrei salvarti la vita in cambio del 50% dei tuoi averi, mio caro E ora basta Bruno, non ho intenzione di perdere altro tempo con te Templar sta andando a prenderla Come faccio a sapere che non sia un trucco? Perché non fai una telefonata all'ospedale? E dov'è Templar? Aspetta che io lo chiami all'ospedale E' andato a prendere Michelle, non rammenti? Ok Mi dia l'ospedale San Giacomo, il pronto soccorso Voglio parlare con l'infermiera di turno Sì, signore Circa due ore fa Sì, il signor Templar ha parlato con lui Il commissario Petrucci? E' all'obitorio, vuole che glielo chiami? No Va bene, buongiorno Bene Ok, Diana Trattiamo Ok Noi Dovresti sapere quando le pistole hanno la sicura Puoi anche uccidermi, ma Michelle sarà libera No, li prenderò Tutti e due E quanto a te mi appiccò a Diamond Coraggio, muoviti Sei uno stupido Bruno Stavolta stai commettendo un grosso errore Se uccidi Michelle, ucciderai la gallina dalle uova d'oro Ma ti sbagli, dopo diventerà la gallina dalle uova d'oro Cosa? Una leggenda come Buddy Holly, Elvis, Jim Reeves Continuerò a sfruttare i suoi dischi per altri vent'anni È per questo che hai deciso di uccidere tre persone Non ho altra scelta Sono in un brutto guaio E adesso sta zitta e guida Scendi Avanti, muoviti Muoviti Visto che è arrivato il momento, posso avere almeno una sigaretta? Sai già cosa ti aspetta, vero? Una morte lenta D'accordo Forza, portali ancora Presto Non ti sembra di essere un po' troppo teatrale? Hai una pistola, no? E allora usala, che aspetti? No, la pistola, lascia tracce Poi? Oh no! Poi! 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 Ho! Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Grazie per la visione Accidenti che ora è Devo proprio prepararmi Un colpo è via Un colpo di sogno Se non ti avessi conosciuta da Henri Ah, ne avresti conosciuta un'altra Londra può aspettare, Sam E io devo tornare in America solo fra dieci giorni Beh, passa lì a Londra Cioè insieme a te? Ho un quarto d'ora, ce la fai? Aspettami all'uscita Scusi Stavo cercando madame Ma è partita Ha lasciato l'albergo, monsieur Ah Grazie A proposito, la signora del 308 Sa dirmi come si chiama? Marcel Di Vallese, monsieur Proviene da Roma Di Vallese Di Vallese Mi dice qualcosa Grazie Andiamo Oh mio Dio Andiamo Non sono mai arrivato in tempo all'aeroporto Non ci arriverò mai Questa volta ci arrivi invece Quelli sono tutti giardini reali, vedi? Ecco, quello è l'ingresso ai giardini della regina Che meraviglia Quello lassù è il Big Ben Ah Quella è la Camera dei Deputati E l'abbazia di Westminster è di qua Dunque, siamo a Londra Ah, è semplicemente fantastico Guarda quanti bassorilievi E quante guglie E io avevo le mille punte di un'enorme costruzione Piena di bassorilievi di pietra antica E lì vicino c'era anche una grande torre Non ho più pellicola Ti pare che ci fosse anche un ponte Procedevamo E allora dove ci andiamo adesso? E' un vecchio parco Ehi Ma che ti prendi? Niente Stavo pensando a una cosa No, niente Leggi qua Dunque, il governo paraguaiano Ha annunciato oggi Che il dottor Di Vallesi Di Vallesi Ma la donna del sogno Non si chiamava così? Certo, continua Ehm, è stato nominato ambasciatore presso il governo di sua maestà Questa nomina sorpresa sembra avere origine nelle forti pressioni No, 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 un momento, un momento Quando deve arrivare? Ah, ecco Il 23 prossimo Farò una settimana Ehm, non ti sembra una coincidenza incredibile questa? Senti, George Lo so che sembra una follia E che io sembro pazzo Però ho la precisa impressione che qui ci sia molto di più che il solito incubo di una donna isterica Certo C'è il mio incubo Quando mi hai chiesto un appuntamento sembravi così sconvolto che ho fatto subito un controllo Quando il capo lo saprà mi farà espellere dal corpo O degradare O promuovere Se i miei sospetti risultano fondati Se veramente si sta preparando un attentato Chi è? Sì, Jim Hai fatto presto? Grazie Allora, stammi bene, Simon Chiaro Non esiste un killer biondo schedato in Inghilterra Inoltre l'ambasciata del suo paese mi dice che Di Vallesi non ha nemici Ed è forse l'uomo meno discusso del mondo intero Forse è l'unico al mondo che non ha nemici È soddisfatto? No Non sono affatto soddisfatto Tanto per cominciare il biondo potrebbe venire da fuori E discusso o no Di Vallesi può avere un sacco di nemici di cui il suo governo non sa nulla Di Vallesi avrà la solita protezione dal momento in cui arriverà E con questo chiudo l'argomento Bene, bravo George E spero per il tuo bene Bene, che si è chiuso anche per Di Vallesi Buon dia, signor Che calor, non è vero? In la piscina si staria meglio Non lavorando tan bene Adios, signor Grazie a tutti Apparati un sacco di due Grazie a tutti. Signor Gunter è qui. Chiedo un taxi. È in un'ora. Dove vai? La valigia. Oh, ti prego, non ripartire, non andartene. La valigia! Un punto per te. Quando sei uscito ho chiamato l'Interpol e mi hanno confermato che... Che conoscono un killer con i capelli bianchi, vero? Non si riesce mai a farti una sorpresa. E chi è? Dunque... È uno svedese, un ex ufficiale, noto come Jan Borg. Ora in pensione sotto il nome di Gunter. In Ecuador. Simon, ci sei? Certo. Certo, ne ho già sentito parlare. Però non risulta che abbia mai lavorato da noi, quindi... Beh, può darsi che questa volta abbia trovato il modo di evadere il fisco. Comunque, fammi un piacere, ti prego. Chiedi all'Interpol se è ancora in Ecuador. Già fatto, si informano. Perché se lui è quello che credo ed è già in viaggio... Possiamo ordinare la loro, eh? Io porto solo l'aureola. La stampa laggiù lo chiama Signor Muerte. Signor Muerte. Niente. Ve l'ho detto che è partito. Signor Muerte. Questa camera è il lavandino, Signor. Le piace? Signor Muerte. La prendo. No, 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 non c'è bisogno che paghi in anticipo. Io so di chi mi posso fidare, almeno per quanto riguarda i soldi. Quanto al resto, poi... Una donna è sempre in pericolo. Mmh, Signor. No, no, no. Non, non, anche. Si, si, non. Sì, non. Si, non. Niente. Si, non. No, sì. Signor Gunther, ci perdoni questa invasione. Continui pure a fare quello che stava facendo. È questione di un momento, signor. Non capisco. Non è difficile da capire. Lasciava il nostro paese, signor. No, ma cosa sta dicendo? Ci deve essere un errore. Un errore? Un errore? Perquisiscilo. Ho fatto una tournée di tre mesi con i players. Poi ho avuto una parte in quel film di fantascienza. Quella è stata la mia prima... Beh, insomma, non troppo grande occasione, ecco. E poi ho avuto quella che la proposta. Ferma, ferma, non ti muovere. Non si mette l'aglio nel brodo, si mette qui. Ecco, così. Vedi? Sai, qualcuno mi vorrà sposare, dovrà sapere che non sono una brava moglie. No, che non sei fare una minestra. Come moglie, invece, sarai meravigliosa. Il telefono, il telefono. Non è il telefono, suonano alla porta. Apro subito. Sei in ritardo, Giorgio. Sì, sono stato trattenuto in ufficio. Lo so, due poliziotti si sono fatti ammazzare in Ecuador. Eh, un'altra sorpresa rovinata. Vorresti sorprendermi con la roba che è su tutti i giornali. Gunther, immagino. Non importa, sa tutto. Si vede che quei due conoscevano poco, Gunther. Già. Comunque, l'Interpol riferisce che prima di questo fatto, Gunther ha lasciato casa sua e ha chiuso il suo conto in banca, che comprendeva una grossa somma ricevuta da poco tempo da una banca svizzera. Quanto e da chi? 25.000 sterline abbondanti. E l'assegno era firmato da un certo William Smith. Allora è tutto chiaro, Giorgio. È stato ben pagato e quindi è già in viaggio. Forse sì, forse no. Alla polizia confinaria non risulta passato. Avrà cambiato nome e avrà un altro passaporto, è chiaro. Da noi non entra però. Ci sarà un blocco in ogni aeroporto. Per chiunque venga dall'Equador. E se il signore arrivasse da Rio? O da Berlino? O da Parigi? Sapendo chi è, non mi sorprenderebbe se arrivasse qui a nuoto. No, non è così che potrei prenderlo, Giorgio. Riuscirai a scovarlo solo dopo che sarà entrato in Inghilterra. E lui entrerà. E lui entrerà a scovarlo solo dopo che sarà entrato in Inghilterra. E' arrivato. Ti sei ricordata di mandare quei due inviti per la tua mostra? Ma certo, Ramon. Brava, Carmela. Tutto si sta avverando adesso, eh? Quattro giorni ancora. Ti dico una cosa, Giorgio. Ho la netta sensazione che sia qui. C'è anche di Vallesi. E' arrivato ieri sera. Egregi, signori. Purtroppo ho poco tempo a mia disposizione. La mia segretaria mi ha parlato dello scopo della vostra visita, che francamente per me è del tutto incomprensibile. Ma vi prego, accomodatevi. Prego, prego. Ho pregato mia moglie di raggiungerci e sarà qui fra poco. Chi di voi è Mr. Templer? Se io ho capito bene la cosa, lei sostiene che mia moglie le abbia confidato d'aver avuto in sogno, giorni or sono, il presentimento della mia morte. E' vero che tu sogni la mia morte, Marcel, nonostante il bene che ti voglio. Oh, si direbbe proprio un invito. Te lo leggo? Certo, leggi. Bene. Carmela Di Turbi invita Simon Templer al vernissage della sua mostra di paesaggi sudamericani. Ah, ah. E chi è Carmela? Illustre e ignoto. Non tu per lei, però. Tra parentesi poi Cile, Argentina, Ecuador. Ci andremo. Con tutta quella storia. Potrebbe essere un bel capitolo. E ora dove vai? Voglio vedere se riesco a scovare Gunther. Cosa? Bisogna pur cominciare. Sai, per uccidere Di Vallesi ha bisogno di due cose. Deve trovare il punto preciso da cui sparare e deve procurarsi l'arma. Di Vallesi si non c'è. Grazie, grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. non sai leggere amico di a debbie che voglio vederlo digli che c'è simon templar templar o il duca di wellington devi aspettare il tuo turno non lo sa quello che è illegale andare in giro armati anche sparare non è legito ma lui lo fa in questo caso segue il consiglio e aspetto il mio turno vodka e tonic prego 296 297 298 299 e 300 a chi tocca adesso tocca noi victor mollo ho detto di mollare non dirmi che anche tu vuoi essere assunto ma pure a bere qualcosa ah victor se questa storia si ripete faremo un bel funerale il tuo e bravo dalbi stai reclutando di nuovo dov'è la guerra questa volta guarda i giornali si capisce subito dimmi che diavolo vuoi un nome e indirizzo voglio comprare un fucile completo con cannocchiale silenziatore smontabile io tratto mercenari non omicidi e il loro equipaggiamento è prettamente militare quindi niente da fare io ti mando in galera per reclutamento di mercenari a velocità tale che ti sembrerà di esserci andato a cavallo di un razzo quell'arma mi serve subito e senza discutere quello non si può chiamare un'arma è un pezzo si chiama un pezzo e finisce nelle mani di tutti quelli che sparano a tradimento già è vero tu invece li avverti quando li ammazzi è vero fuori il nome non conosco quella gente i soldi te li lascio lo stesso ti serviranno per l'avvocato templar si signore non siamo mai andati d'accordo però almeno avevo del rispetto per te che non posso più avere se sei sceso così in basso da fare il killer non parliamo più la stessa lingua ti ho chiesto un nome e un indirizzo barry dillon vende roba vecchia a camden high street ed è il numero uno quando si tratta di servire gentaglia come te vuoi che mandi avanti un altro vitto mister dino e marca parla posso venire spero che la merce sia quella che ho ordinato bene a farà poco sono dillon sono mark e le ho parlato per telefono poco fa già è vero signore poco fa solo un momento gran brutto tempo qui da noi era meglio dalle vostre parti non le ho mai detto che non vivo a londra già è vero mi segua signore mi segua quanto costa cinque mila cinque mila cosa sterline a me lo darà per meno lei deve considerare che c'è l'inflazione e che io sono l'unico in questo campo e che il pezzo è l'unico che si trovi sul mercato britannico e anche il migliore vuole sapere una cosa lei parla troppo pessima abitudine e poi è troppo caro allora si rivolga a qualcun altro ammesso che ne trovi un altro è vero che parlo molto io ma non con la polizia allora prendo questa per me è lo stesso mi fa piacere mi fa piacere allora Grazie a tutti. A proposito, qual è Carmela di Turbi? È quella laggiù, con il vestito lungo bianco e nero. Grazie. Ah, grazie. Senti, ora dobbiamo separarci un po', capisci? Oh, grazie. Ah, benvenuto. Dunque, vediamo, lei è mister... Simon Templar. Ah, già. Simon Templar. Mi fa piacere che sia venuto. Perché? Oh, forse è per un certo snobismo da parte mia, credo. Lei è uno dei nonni in voga in alcuni ambienti. Sono molto lusingato da queste parole, ma se conosce gli ambienti dove io sono noto dovrebbe vergognarsene. Su serio? Allora mi ha smascherata, signor. No, non ancora, ma spero presto. Comunque, ora che è qui, guardi un po' i miei quadri. Sono molto orgogliosa di quelli realizzati nel Cile. Potrebbe trovarci qualcosa di molto sorprendente. Il colpo di stato. Brutto periodo. Già. Eppure il paese è meraviglioso. Così mi dicono. Un giudizio che dipende sempre dal punto di vista dell'osservatore. Ma non è questo il sapore della vita, forse. Contrasti. Una società in fermento. Quando portano a questo? Violenza. Morte. Senza la morte la vita non avrebbe dolore. Gioia senza dolore. Parole. Nasce il sospetto che solo un artista parli così. Lei è un artista, mister? Williams. Sì. Sono proprio un artista. A mio modo. Permesso. Ehi. Cosa ti prendo? Niente. Possiamo andarcene ora? Sì, certo. Andiamo pure. Mi sento meglio, padre? Ma non so. Deve essere l'attenzione creata da tutta questa faccenda. Da tutte quelle persone strane là dentro. Da quella signora. Sì, la moglie dell'ambasciatore con i suoi sogni. E pensare che io mi credevo un'attrice. Senti, Simon. Sì? Non puoi far a meno di andare a quel corteo. La polizia ci apposta per queste cose. Che c'entri tu? Non lo so, ma sento che devo. Attrice. Hai detto attrice? Sì. La donna del sogno doveva essere proprio un'attrice professionista. La riconosceresti se la rivedessi? Oh, non si dimentica quella faccia. Molto bene. Allora devi farmi un favore. Cerca tutti i cataloghi degli attori viventi. Italiani, francesi, inglesi, americani. E guardare le foto di tutti finché non trovo quella. Hai capito tutto. Oh, che bel divertimento. Lo farai? Forse domani mattina, quando mi sarò riposata una notte. No, devi farlo subito invece. Ti riposerai alla fine. Sì. Ti ringrazio, Simon. Senti, Simon, io dipendo da lui, non lui da me. E il capo non se la beve questa. E allora dovrà cominciare a pensare di pagare il funerale di Di Vallesi. Vuoi rendertene conto? Chi crede che abbia ucciso Dylan? Per quanto lo riguarda, tu. Senti, amico mio, il capo non ti può soffrire. Non ha fiducia in te e non crede che un Gunther possa entrare in Inghilterra senza che i nostri ragazzi lo blocchino. Quindi l'ordine del giorno è normali precauzioni di sicurezza per il passaggio del nuovo ambasciatore del Paraguay nella piazza del Parlamento. Ti sono molto grato, George, sei stato un vero amico. Hai trovato qualcosa prima di perdere i sensi? Quello che hai trovato tu, niente. Continua a cercare o faremo un bel funerale. Mi scusi, faccia almeno un percorso diverso o comunque non lo faccia in quella carrozza. Sono dolente, signore, ma non posso fare questo. Bernardo! No, non ne parliamo. È tradizione della vostra regina concedere l'uso della sua carrozza personale a un nuovo ambasciatore e io devo rispettarla, signore. Grazie per le sue premure. Non credo che lei abbia compreso, eccellenza. Io ho compreso tutto perfettamente. Per esempio che tutta la polizia, l'FBA e la CIA d'America non hanno impedito l'assassinio di un presidente americano. Quindi se qualcuno vuole proprio uccidermi ha mille occasioni per farlo in modo più agevole, signore. Signore ambasciatore. Mi scusi, la prego. Dove permitsano appena. No, non ci sono stati. No, non ti sono stati. No, non ti sono stati. Non asciutto. La prego. No, non ti sono stati? No. Non ci sono stati. No, non ti sono stati. Oh, salve, io mi chiamo Gail Delaney e sono un'attrice di passaggio dagli Stati Uniti per girare un film. Vorrei rintracciare una mia collega, Liria Moreno. Mi hanno detto che i suoi agenti siete voi. No, non si fermi, seguo quel taxi, per favore. No, non si fermi, seguo quel taxi. E' andato tutto bene a Parigi? Sì, certo. Nessun problema, dunque. Nessun problema. Vuole spiegarmi allora perché la seguono? Conosce quella ragazza? Sì, certo. È quella che era in albergo a Parigi con Simon Templer. Come è possibile? Miss Moreno, lei ha fatto del suo meglio. Grazie, il suo assegno è sul tavolo. Ora esca dall'uscita posteriore. Senta, mi dispiace molto, ma... Fuori! Prego. Sancho, scendi subito e invita qui la ragazza. Con buone maniere, se questo è possibile. Un mondo di ficcanaso. Se io sono Templar e adesso tu. Sono perseguitato dai ficcanaso. E se non mi farà uscire da qui, entro dieci secondi, lei sarà perseguitato dai poliziotti. Tu sei morta ormai, non l'hai capito, figliola? Prima lui però, poi tu. Lei chi diavolo è per dirmi questo? Davvero lo ignori? Del resto, sono anni che la mia foto non appare su tutti i giornali come un tempo. Permettimi di presentarmi. Io sono appunto il colonnello Ramon de Santa Perez, mio fratello. Oh no. Ecco, vedo che mi hai riconosciuto. Ma tutti la credevano morto. Il governo di mio fratello è morto. E lui anche, ma io sono vivo. Ammesso che questa sia vita. Accompagna la signora nella sua stanza. Me ne occuperò più tardi, personalmente e per sempre. Ma perché? Perché fa tutto questo? Perché colui che è responsabile di tutte le mie sofferenze passerà per quella piazza fra non molto e lì morirà. Morirà sotto i miei occhi. Come morì mio fratello nella nostra piazza del Parlamento. Lo guarderò. E godrò nel vederlo morire. La stampa l'ha sempre chiamata macellaio. Ora ne capisco la ragione. Il meglio, madame, deve ancora venire. Parola mia. Carmela. Carmela, vieni a vedere. Lo spettacolo sta cominciando. Tre uomini, George. Dov'è il tuo cane? Non fare effesso, sai, non. Ho persino trasgredito gli ordini. Ho messo uomini scelti un po' dappertutto. Vediamo. Posizioni. Harrison Bade, rispondete. Tutto bene qui, capo. Niente di nuovo. Jackson. Tutto bene, capo. Rogers. Tutto bene, capo. Comunque, occhi aperti. Demby. Sergente Demby, rispondi. Sergente Demby, rispondi. Big Bear, rispondendo. Scusi, capo. Tutto bene qui? Dove diavolo eri? Ogni istante è prezioso. Sì, signore. Ciao. Che ne viva. Ecco la carrozza a rinare. Occhi aperti ragazzi, sta arrivando. Grazie a Dio è andata. No, Giorgio, per me c'è qualcosa che non ha funzionato. E adesso Simon Templer... Attento! Ehi, forza! Manda qualcuno in quel palazzo, subito. Ehi, Templer! TUNKA Grazie a tutti. 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 Cos'è che hai al petto? Mi prendi in giro? No, come puoi dire una cosa del genere? Vieni qua. Urlami in un orecchio, io non sentirò nulla. Allora, come puoi dire? 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 Oh, grazie. Ho provato due volte a partire per questa vacanza. e due volte sono stato richiamato. E due volte sono stato richiamato all'ultimo momento. E due volte sono stato richiamato all'ultimo momento. La terza volta deve andare bene. Mister Simon Templer? Mister Templer? No, avete sbagliato persone. Io mi chiamo... McFeeling. Ci segua, prego. Ci segua, prego. Ehi, no, un momento. Voglio sapere chi siete e che cosa volete. Abbiamo l'ordine di prenderla, non di parlarle. Qualcuno ha urgente bisogno di lei per una questione. Qualcuno chi? Il colonnello Garbi. D'accordo, vi seguo. Simon, dammi il biglietto. Ti farò avere un rimborso. No, grazie. C'è un altro aereo fra un'ora. Comunque, che cos'è questa storia? Settembre Nero. Un loro capo ha disertato. Abdullah Kim. E con ciò? È qui a Londra. E noi lo cerchiamo, finora vuoto. Era diretto in Sud America e forse... forse si è fermato per trovare soldi, un passaporto, un visto. Non lo sappiamo, ma dobbiamo trovarlo. No, mi dispiace, Leo. Perché? Non voglio uccidere nessuno. Ma non c'è pericolo, lo vogliamo vivo. Questo è il primo dei loro che diserta e conosce tutti i loro capi. Con le informazioni che potrebbe fornirci noi potremmo distruggere l'intero gruppo. Non mi interessa. No, ascolta, l'uomo si è ben nascosto chissà dove e quelli del suo gruppo lo stanno freneticamente cercando per chiudergli la bocca prima che noi lo troviamo. Quindi si è ben sepolto nella nostra giungla. Una giungla che nessuno conosce meglio di te, chiaro? Molto chiaro. Ebbene, Tel Aviv ci ha mandato uno specialista dell'antiterrorismo, il capitano Sabin, per rintracciarlo, ma l'ufficiale non conosce Londra. Quindi c'è bisogno di te come guida, Simon. Sei pronto a farlo? Dunque, l'uomo è un killer, non è così? Ha capeggiato i più famosi attentati. Quindi se riusciremo a trovarlo si difenderà sparando, non è vero? No, 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 ho capito cosa pensi. Credimi, Simon, io rispetto questa città, forse più di voi, ma nessuno di noi sparerà mai il primo colpo. Ho dato precisi ordini. Hai la mia parola d'onore? Allora ci dai una mano? Certo. Bravo. Capitano Sabin, si accomodi, prego. Il capitano Sabin. È questo l'uomo? Mhm. Dalle vostre descrizioni pensavo di vedere qualcuno molto più... Vecchio? Anch'io, capitano. Ma non mi lamento. Templer. Simon Templer. Ma non mi lamento. Ma non mi lamento. Ma non mi lamento. Grazie a tutti. Massroo, è bello, rivedete. Ramani, Caliban, l'avete trovato? Non ancora. La città è immensa, Massroo, e noi siamo solo quattro. Arrivano rinforzi. Allora, raccontami tutto. Abbiamo parlato con tutti i nostri contatti. Non si è fatto vivo con nessuno. Mi sembra chiaro. Chissà come funziona la testa di un traditore. Io lo so molto bene ed è per questo che sono qui. Ma non chiamarlo traditore. Abbiamo combattuto insieme fin dal principio. E insieme abbiamo compiuto molte azioni di guerra. C'era tanto coraggio allora in quell'uomo. Tanto odio. Ora è finito. Ma non per questo è un traditore. E che altro sarebbe? Un uomo che è cambiato. Ma non so dirti il perché. Forse per la morte di suo fratello durante un attacco a un kibuzio. Ma qualunque sia la ragione del cambiamento, io rispetto il suo ricordo. Quindi lo ucciderò con onore. Prima che la donna lo trovi? Quale donna? La Sabin. Sta venendo qui. Lo sappiamo dal cairo. Accidenti. Se quella lo trova siamo tutti morti. Mmm, molto bello. Si tratta molto bene. Però non mi sembra il posto migliore per un quartiere generale. È chiaro. Quindi è l'ideale. Ma se le piace la pubblicità, possiamo mettere fuori la bandiera di Israele. Non importa. Sai cosa devi fare. Quello è un vero professionista. Però non serve. Non ci sono microfoni in questa casa. Tutto a posto, Capitano. Ah, ottima notizia. Ora vado a prendere le valigie. Capitano. Esegui. Allora, bagniamo il nuovo quartier generale. Mr. Templer. Si? Mettiamo le cose in chiaro, una volta per tutte. Sono io che comando qui e lei è la mia guida. È chiaro questo? Come il sole, vodka. Io non bevo, ancora non l'ha capito. L'avevo capito purtroppo. Ma c'è dell'altro. Forse è una forma di difesa perché sono una donna, ma io trovo il suo atteggiamento verso questa importante missione, diciamo divertito. Non ha nemmeno guardato la pratica. Invece di pensare a bere, perché non pensa dove cominciare le ricerche? Credevo che questo fosse ovvio. Ovvio? La foto di quell'uomo a Londra. Parla chiaro. Londra? Quale foto? Quella che porta la data del 17 maggio 1979, trovata in un campo profughi. Questa è Londra? Mm-mm. E come lo sa? Quella è la torre della televisione. Oh, ci sembrava una comune ciminiera. Superficiale, da parte sua. Non trova? E allora? Hai parlato con quello? Sì, il passaporto è pronto. Lo avremo domani. Sialo dato alla. Finalmente è una nuova vita per noi. Hai parlato con tuo padre per i soldi? Beh? Gli hai parlato? Perché non rispondi? No. Perché no? Era una promessa. Senti, senza quei soldi non avremo il passaporto né i biglietti per l'aereo. Abdul, mio padre è un uomo anziano. E io sono un uomo morto. Lui comunque dovrebbe darti una dote. Ma quella somma è troppo per lui. Sono i risparmi di una vita e resterebbe senza un soldo. Senza più niente. Ma ha sempre il suo negozio, no? Con un enorme stock. Che altro vuole per vivere? Yasmin, Yasmin, non abbiamo più tempo. Un giorno può esserci fatale. È l'unica nostra speranza. Mi fai male. Io ti amo, Abdul. Ti ho portato fin qui e ti porterò oltre. Te lo prometto. Fidati di me. Ora il sole batte sulla torre da sinistra. Quindi, in base alla fotografia, siamo nella giusta angolazione. Nella foto però la torre è tagliata da un palazzo. Che secondo me è proprio uno di quelli, lì a Soho. E se si tratta davvero di uno di quei palazzi, dovrebbe trovarsi alla seconda o al massimo alla terza strada a destra. E ora vedremo se ha ragione, Mr. Templer. Dovrebbe essere al 27. Yasmin! Yasmin! Masruf. Nasconditi! Non voglio lasciarti. Sta tranquillo, so come comportarmi. Corri, vattene. Ti chiamo da Assad. Non voglio lasciarti. L'hova! 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 Ah! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Oh, lascia pure che parli. Se lei li porta da Akim, noi li seguiremo a ruota. Sta ferma un momento se vuoi che ti medici. Ecco. Hai detto qualcosa a quelli? E come avrei potuto? Io non conosco questo, questo, non ne ricordo nemmeno il nome. Non fare la scena con me, cara. Ma è vero, lo giuro. Tu stai mentendo. Conosci questo? Come avete questa foto? Faccio io le domande. Era uno qualunque. Rashid, un amico di Amman. Quello è Abdullah Kim. Anche se lo è, non avete il diritto di farmi tante domande. Prima quegli altri e adesso voi. Io me ne vado da qui. Non ti importa che il tuo amico sia un terrorista e un omicida? Non credo una parola. Senti, stai facendo un gioco molto pericoloso. Il tuo amico ha ucciso moltissime persone innocenti e continuerà a farlo se non lo fermiamo. Non è vero. Se lo stai proteggendo, pensa alle conseguenze. Solo noi possiamo proteggerti davvero. Ma se non collabori, quegli uomini ti uccideranno. Non mi troveranno più. Sono certa invece che ti troveranno. Ora mi metto a urlare. Io mi chiamo Simon Templer. Se cambia parere o ha bisogno d'aiuto, chiami questo numero. Può uscire. Ehi, Mawabi, aspetta! Dobbiamo seguirla. No. Lasciamola illudere. So dove trovarla. Wow. Fammi passare. Eccolo. Non toccarlo. Chi parla? Mr. Garton? Sì. Ciao, Timbro. Simon Templar, lo conosci? Volevo avvertirti che sto arrivando per fare due chiacchiere. Oh, no, 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 no. Faresti solo un viaggio a vuoto. Non provarci nemmeno, Templar. E ricordati di mandare il tuo gorilla a comprarsi una banana. Non voglio vederlo. Lo terrò qui, invece, con l'ordine di non aprirti la porta. Non voglio essere costretto a mandarvi entrambi all'ospedale. Voglio solo fare due chiacchiere in pace e in amicizia questa volta. Ma noi non abbiamo niente da dire. Abbiamo molto, invece. Quindi o parli con me o parli con la polizia. Quale delle due soluzioni preferisci? Eccolo. Svedisci il gorilla, ti prego. E questa volta cerchiamo di comportarci bene. C'è una signora con me. Sam! Tieni. Che devo farci? Una cosa che dure un'ora. Forza, sparisci! Fuori! Perché sei sicuro che a chi mi vada da Garton? Non può esserci non altro che lavorerebbe. Garton è un vero specialista. Tutti fanno passaporti falsi. Lui fa anche i visti. Ah, è chiaro. Il visto è importante. Già. Lui è l'unico a Londra. Ed è molto veloce. Attenta, ora ci proviamo anche noi. Vai. Cerca di non perderli. Forza. Perché ha fatto quella corsa? Nel dubbio. Ho avuto l'impressione che qualcuno ci stesse seguendo. E li abbiamo seminati. Sposeresti un uomo simile. Un uomo che ha nemici capaci di farti questo oppur di eliminarlo. Ma in nome di Allah, chi è questa Kim? Cosa fa? È un uomo che ha fatto cose tremende. Orrende. Ma ora è cambiato. Lo conosco da due anni, papà. Da quando era a Londra. Mi adora davvero. E solo per questo ora vuole fare di tutto per dimenticare il suo passato. No. Te lo proibisco. Ma papà, siamo in Inghilterra e io sono maggiorenne. In Inghilterra la dote non è un diritto reale, ma un'offerta che il padre può fare alle sue figlie. E quest'offerta dipende da come gli parla il suo cuore. Quindi se l'uomo che vuoi è quello, non ti offro nulla. Non ho altro da dire in proposito. Ma io sì. Tu non ti rendi conto? Finché lui sarà qui, sarò in pericola anch'io. Allora dobbiamo avvertire la polizia e farli arrestare tutti. Non servirebbe a nulla, papà. Ne verrebbero ancora. Pensi? Ma chi verrebbe? Sono terroristi. Settembre nero. Che somma ti serve? 2000 sterline. Grazie, papà. Grazie. Mr. Garton, le ho parlato per un passaporto e un visto per la Guiana. È tutto a posto, ho quello che le occorre. St. Catherine's Dog. Alle 11 domani mattina. Sì, lo so. Grazie. Timbro. Timbro! Sono qua! Salve, caro Timbro. Da quando ha perduto i suoi cavalli fa correre gli altri, specialmente quelli che cercano di scappare. Stai sprecando il tuo genio. Che cosa vuoi, Timbro? Fuori il rospo. Mi faresti un paio di biglietti per la partita? No? D'accordo, allora ti faccio subito un'altra domanda. In questo caso hai sbagliato persona. Come puoi dirlo se non conosci la domanda? Prego. A questo mi hai già risposto. Dove sta? Di che cosa parli? Di un passaporto, amico. Dell'opera d'arte che stai creando per lui. Continua, forza. Divertiti pure. Non fai che perdere tempo cercando, perché appena è pronto. Tu lo nascondi, vero Timbro? Lo metti al sicuro. Nel caso che il cliente venga a prenderselo con la pistola. D'accordo, il passaporto è pronto. Io voglio solo la data e il luogo della consegna. Senti, vuoi metterti in testa che io non do informazioni? Informazioni sui miei clienti. Ammetta che io le offra per questo passaporto, vediamo, il doppio del prezzo che paga quell'uomo. Se facessi queste cose sarei finito. I miei clienti sono molto particolari. Lo so, questo è un assassino, vero? E tu lo sai bene, vero? Prova a metterti al mio posto per un momento. Se un uomo di quella fatta ti paga un passaporto, tu non dà informazioni sul suo conto, vero? Perché se domani qualcosa non funziona al momento della consegna, giù al porto, ci rimetto la pelle. Hai detto al porto, Timbro? Ho parlato di porto. Andiamo, Templar, prenditi la tua bella femmina e pussa via. Io mi guadagno il pane. Grazie, Timbro. Questo mi basta. Arrivederci. Se non si può farne a meno. Ci sono tante di quelle banchine nel porto di Londra che trovare quella giusta è proprio come trovare un ago in un pagliaio. Roba da pazzi. Capitano? Ma come si trova quella giusta? Ma lascia perdere il porto adesso. Con il poco tempo che abbiamo. Domani mattina consegnano il passaporto. Quindi possiamo dimenticarlo fino a domani mattina. Abbiamo fatto più del possibile per un giorno e non possiamo fare altro fino a domani. Nel nostro esercito abbiamo un detto. Non fare e fare senz'altro qualcosa di sbagliato. Capitano? No, grazie. Ma almeno lo assaggi. È fresco, è di buona annata. E non bere con l'ospite è quasi un insulto. Ah, ah. Ecco, è meglio, vero? Bene. E ora noi due ci sediamo qui e facciamo un bel discorsetto. Sulla missione? No, sulla situazione. Non dovremmo ritrovare la ragazza ora? Capitano. Io voglio che Iakovic ci porti una scorta armata. Capitano, mi dia questo telefono. Dunque, sa cos'è lei? Lei è una lavorotica. Lei è cioè un esempio vivente di quello che non funziona nell'educazione del kibbutz. Come osa lei? E inoltre ha vissuto tanto con gli uomini da dimenticare che esistono gli uomini e che lei è una ragazza veramente bella. Io non ho dimenticato niente. E quello che io sono, uomo o donna, giovane, bella o brutta, non è importante. Io faccio parte di... Di un esercito, lo so. Peccato che la vita non abbia saputo offrirle altro. C'è qualcos'altro, infatti, nella mia vita, più importante del suo champagne o di una notte nel suo letto. La mia famiglia e il ricordo di come l'ho perduta, massacrata dai terroristi all'aeroporto. Fratello, madre e padre. Io avevo pochi anni. Non lo sapevo. Mi perdoni. Io lo capisco, ma non posso essere una donna finché non è tutto finito. Non è che non la trovi attraente, ma capisce cosa sento. Certo. Chiudi la porta, vecchio. Ma chi siete voi? Cosa fate in casa mia? Cerchiamo Abdullah Kim. Avete sbagliato persona. Sono Elim Fahman e vivo solo. Padre di Yasmin, lo so. Sappiamo tutto sul tuo conto. E sui rapporti di tua figlia con Hakim. Allora io so meno di voi. Tu ed io siamo dello stesso sangue. Sei un patriota? Sì, certo. Allora deve essere tuo desiderio farci trovare quel traditore. Io non conosco traditori di alcuna causa. Elim, un uomo d'onore non mente ai suoi fratelli. Ecco, io so che quell'uomo esiste, ma non so nient'altro. So che stai mentendo. Forse per proteggere tua figlia. Senti, lei non aveva idea che quell'uomo fosse quello che voi dite che è, ve l'assicuro. È soltanto una ragazza innamorata. Non fa politica, non capisce niente di queste cose. Io le ho proibito di rivedere quell'uomo e lei mi obbedisce, obbedisce a suo padre. E' lì, ma a noi non interessa tua figlia. Ma è? Perché tu sia disposto a dirci dove possiamo trovare Abdullah e Kim? Se lo sapessi ve lo direi subito. Beh, fai modo di saperlo. Fa di tutto. Fanne un gesto di patriottismo e un atto d'amore per tua figlia. Altrimenti ti sarà riportata domani, con la gola tagliata. Senti, io so soltanto che a Kim si troverà al St. Catherine's Dock domani alle undici. Se quello che hai detto è vero, hai reso a noi e a lei un servizio. Salam Alek. Una gita a vuoto. Le ho detto che avremmo dovuto seguire ieri la ragazza. Sono certa che andava da lui. Non credo che questo sia un viaggio a vuoto. Comunque vedremo. Grazie a tutti. Cantate. Su, forza! Grazie a tutti. Forza, tutti giù. Andiamo di là. Guardi, signorina. Oh, bene. Andiamo a vedere. Non vi allontanate, bambine. Andiamo a vedere. andiamo a vedere. Grazie. L'hai portato? Fa' vedere. Eccolo qua. Guarda, è perfetto. I soldi ora. Eccolo. Attenzione! Prendete la macchina, io lo seguo. Tu segui Simon, io blocco gli altri. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Dov'è il capitano? Sia tranquillo. Tra poco ci raggiungerà a casa. Quale casa? Ma non andiamo all'ambasciata? No, mister Templer. Che cosa vuol dire no? Noi lo portiamo di corsa all'ambasciata. E una volta fatto questo, la mia missione è compiuta. Non all'ambasciata, mister Templer. Qualcuno può vederci. Devo ricordare il capitano? Devo ricordarle forse che questo è un arresto illegale. Cosa devo fare? Vi richiamo fra un'ora. Dove vi trovo? Com'è il numero del colonnello? 01476 0312. 01476 0312. Fatevi trovare o l'ammazzo. E chi mi dice che non è già morta? Avanti, parla. Simon, non pensate più a me. Se è vero che avete a Kim, purché parli, di me non importa. Richiamo fra un'ora. Senti, Harry, è una supposizione. Ma non muoverti. Appena ne so di più, ti richiamo, ok? Va bene, ciao. Insomma, ci tenete proprio a farlo in questo modo. Lei ha finito la sua parte. Ora tocca a noi. Va da spasso se di stomaco debole. Hai fatto un bel lavoro, Simon. Già, ma senza risultato. Il capitano Sabin? Non è colpa tua. Sto aspettando la loro chiamata. Ah, sì, parlo io. Meglio di no. Un'altra voce può mandare tutto a monte. Senti, non è nostra politica cedere a queste pressioni terroristiche. Tutti sono d'accordo su questo punto. Esercito, governo e opposizione. Abdul Hakim è un personaggio chiave nella lotta contro il PLO. Passa alle conclusioni, Leon. Noi siamo pronti a sacrificare il capitano Sabin. Davvero? Beh, io no. Con tutto il rispetto, Simon, il tuo parere non ha peso. Ne sei convinto? Ti conviene riflettere, Leon. Io posso crearti un inferno. E ora ascoltami bene. O cambi gli ordini, o io mando per aria tutta l'operazione. E lo faccio. Il PLO non vi avrà mai fatto più danno. Sei d'accordo? Templar, sì, parlate. Lo troverò. Allora? Quando? In questo istante. Hakim, quei nomi. Non vuole parlare, eh? No. Allora acceleriamo il processo con altre iniezioni. Colonnello, siamo appena all'inizio. No, siamo alla fine. Dobbiamo scambiarlo con Leila. Preparati a consegnarlo. Simon, ci hai costretto tu a questo. Le modalità decidile tu. Comunque, restiamo a tua disposizione. Grazie. Dunque, chiama questo numero. Chiedi di Harry, è un mio amico. Digli che si fa e di aspettare la mia macchina. Qui c'è l'ora e il posto. Ah, d'accordo. Simon, se hai pensato che fosse una mia decisione, beh, sappi che io non facevo che seguire la politica del mio governo. Bene, sappi invece che io non faccio che seguire la mia. Avanti, andiamo. Non gli passa ancora? Lentamente. Hakim, sai dove stiamo andando? Andiamo dai tuoi amici per scambiarti con il capitano. Ti ricordi di Monaco? Ora tocca a te. Sei alla fine, Hakim. Parla, se vuoi che cambiamo parere. Dacci i nomi di chi vi comanda. Ci stiamo avvicinando al luogo dell'appuntamento. Ti conviene far presto. Non ti credo. È un trucco. Non è un trucco, vecchio mio. Eccoli là. Apri gli occhi. I tuoi compagni. Pensi ancora che sia un trucco? Va bene, va bene. Ora parlo. Fuori i nomi? No, torna indietro. Prima torna indietro. Poi viderò i nomi. Niente da fare. Prima i nomi. No, torna indietro. No. E va bene. D'accordo. Vi do tutti i nomi. Ma ferma la macchina. Fermati. Sei solo un po' in ritardo. Portami via. Portami via. Ora ti dico tutto. Tutto quello che vuoi. Ma non tenermi qui, però. no. No. Grazie a tutti. 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 Come va, capitano? Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Con l'aiuto dei miei amici. E Hakim ci ha promesso di parlare, vero Hakim? No. Tu hai detto che avresti parlato se ti avessi salvato? Sì? Beh, ora ho cambiato parere. Se credi che io parli con quella sei pazzo. Anche loro mi ammazzano. Solo dopo un regolare processo, cosa che voi non fate mai alle vostre vittime. Un processo in Israele? Io parlo soltanto ad una condizione. Io parlo soltanto ad una condizione. Sentiamo. Non ammetto trattative. Quale condizione? Voglio riavere il mio passaporto. Voglio Yasmina all'aeroporto e la voglio sola. e poi mi metti sul volo per la Guyana. Questo si può fare. No, questo non si può fare. La prego di... Capitano, lei non può decidere. Il colonnello ha messo nelle mie mani l'intera questione. Intendo portarla a termine. Ma io non... Niente ma, capitano. Sono pronto a crederti ancora una volta. Io sono in buona fede. Allora d'accordo. Ecco il biglietto, signor. Ecco qua. Dicci quei nomi e il biglietto è tuo. Mi spiace, non hai ancora completato la tua parte dell'accordo. Già, è vero. Aspetta di avere le mie notizie, va bene? Sì. E ora vedi sopra. A vedervi partire. E ora ho fatto tutta la mia parte. No, non ancora. Devo essere al sicuro. Devo passare il controllo. Ecco i nomi. Sono in arabo. Tu leggi l'arabo. Però ti avverto che farò controllare quei nomi prima del tuo arrivo. E se per caso sono falsi... E se per caso sono falsi... ... ... ... ... ... Quell'uomo ha massacrato un numero incalcolabile di persone per bene E lei ha permesso che se ne andasse tranquillamente per il mondo Ne hai convinta? Ma che shock, avendo perduto noi hanno seguito Yasmin Non credevo che ci saresti riuscito I nomi autentici, ma srufe gli altri arrestati E voi due avrete sempre la più profonda gratitudine del nostro popolo Questa volta posso dire sul serio, è stato un piacere Un biglietto per le Bermude con i nostri migliori auguri Ti ringrazio molto, ma speravo di mostrare Londra a Leila per un paio di giorni Ma io sono ancora in servizio, devo rientrare subito alla base Apri pure la busta È in licenza per un mese, capitano Ma io non... Questo è un ordine, capitano Date la vita Non deve protestare, capitano Deve obbedire Non pensate più a nulla, ragazzi Divertitevi Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Ma uno di questi giorni la fortuna potrebbe abbandonarlo Grazie per la visione La polizia per favore Lasci perdere Come ha detto scusi? Vorrei che non chiamasse la polizia Io non so che diavolo sia lei ma qualcuno ha tentato di... Lo so, lo so, lo so, il mio capo vorrebbe parlarle, signor Templer, Simon Templer La polizia per la visione La polizia per la visione La polizia per la visione Ti prego papà, è una follia Non puoi lasciare uscire Joey dopo quello che è successo Lui è mio figlio e questo significa che rischia la vita in ogni momento Tu te la senti lo stesso di uscire, vero Joey? Sì papà La fuori ci sono molte persone che ti odiano, qualcuno anche del nostro paese Ah, è arrivato il mio ospite Papà Il tuo college inglese non ti ha insegnato il rispetto per tuo padre Ma se sarà necessario ti rieducherò io Buto Riportalo qui per le tre E tieni gli occhi aperti, mi raccomando Sì signore Ah, lei è il mio salvatore Sono contento che il colonnello Dyson l'abbia convinto a venire qui Champagne, whisky Lei è per me un caro amico, signore Se è per ringraziarmi lo consideri già fatto E ora mi scusi E' chiaro Sarebbe questo l'uomo che affronta la folla, vero? I miei complimenti, è un sosia perfetto Sì, ma solo per quanto riguarda i connotati La prego Aspetti Mi spiacerebbe che la nostra amicizia si interrompesse bruscamente Cosa c'è? A teatro stasera vado io E' per questo che ti pago, no? Ora vattene prima che ti prenda a calci Non si stupisca, signore Gli uomini come Giopo amano essere maltrattati Lo sono stati per tutta la vita Capisce ciò che dico, signor... Templar, signor presidente Simon Templar Qualcuno lo chiama il santo Ah, l'ho sentita nominare Lei è in gamba Comunque, visto che dimostra di avere una gran fretta Voglio chiederle una cosa prima che se ne vada Ha visto l'uomo che ha tentato di uccidermi? Non ho potuto farne a meno, stava per colpire anche me I nostri connazionali neri sono spesso Deboli di vista e deboli di mente Era un negro, vero? Sì, era negro Se non vuole che il fatto si ripeta Le consiglio di raddoppiare le guardie del corpo E di chiamare la polizia No! Niente polizia, ha capito? Non voglio pubblicità Un attentato fallito ne richiama sempre un altro È come un'epidemia Lo faccia E se morirò Mi avrà sulla coscienza, signore Ho avuto guai molto peggiori Signor Templer La ringrazio di avermi dimostrato Che non tutti gli uomini hanno paura di mio padre Lei è uno di quelli che non rispetta i gradi, vero, signor Templer? Non quando sono conquistati facilmente Dyson? Se non erro c'era un Dyson nell'S.A.S Espulso dall'S.A.S In seguito sono vissuto in campagna levando polli Poi Obono mi ha offerto 50.000 dollari l'anno Per trasformare la sua plebaglia in un esercito di prima classe Lei avrebbe rifiutato? Non occorre che aggiunga altro Dica al presidente che non andrò alla polizia Anche perché non mi interessa minimamente che qualcuno voglia ucciderlo Su, coraggio, vai Va bene, resta lì Ehi, vieni fuori Ma dove vai? Sta' attento Mi scusi signore È quello il figlio del presidente Obono? Cosa vuole? Il presidente è stato ferito Devo portarlo subito da lui Andremo con la macchina di servizio Va bene Gioi Dobbiamo tornare in albergo Oh, ma siamo appena arrivati Ti dico che dobbiamo andare Ehi, state sbagliando strada C'è una sola strada per voi due E se non volete che mi arrabbi è meglio che restiate calmi Sono stato chiaro? No, no Hanno rapito Gioi Perché? Perché? Perché non hai voluto darmi retta? E perché non accetti mai consigli da nessuno? Ma c'era Butu a sorvegliarlo Che è successo a Butu? Sarà già finito in fondo a qualche fossa Cos'ha intenzione di fare adesso? Beh, visto che non vuole o non può pagare il riscatto Chiamerò la polizia Non sa leggere Se avvertirai la polizia o i giornalisti Tuo figlio morirà Ha intenzione di ucciderlo? Signor presidente Lei qui non è a Buleda Non ha né spie, né esercito, né polizia segreta È solo circondato da nemici Sarò circondato da nemici Ma anche da idioti Ma cosa pensi di fare? Salvare mio figlio E poi farla pagare a quei maledetti Che l'hanno rapito La mia risposta è no, Mara Si rivolga alla polizia o ai servizi segreti Ma non perda altro tempo Ma non ricorda ciò che ho detto? I rapitori... Sì, lo so Quelli usano sempre la stessa tattica Avverti la polizia e tuo figlio, tua figlia, tua madre morirà Ma se lei starà al gioco pregherà sulla tomba di suo fratello Ma allora, perché non ci aiuta lei? E perché odia mio padre? No, Mara Non vi aiuto perché non posso Non sono un mago E non ho un esercito di investigatori Quindi torni da suo padre e lo convinca che solo la polizia può salvare suo figlio Le mie parole non serviranno a niente Lei non conosce mio padre Se non ci aiuterà lei finirà per rivolgersi a Dyson E tutto quel che farà lui sarà prendersela con quei poveri disgraziati dei miei connazionali Li minaccerà, li torturerà e Dio sa cos'altro E Joy... Joy intanto verrà ucciso Allora pagate il riscatto Se lo farete subito forse vi restituiranno Joy Se mio padre potesse pagare lo farebbe Ma lui non ha tutto quel denaro La smetta Né in Svizzera né altrove, mi creda Lui spende tutto per l'esercito Per la polizia segreta e per... Lei è l'unica speranza di Joy, signore Come... Come può rifiutarsi Templar? Ho detto di no, non mangerò niente, capito? Niente Va tranquillo, nessuno ti obbliga, Joy Qui non siamo a scuola A me non importa proprio niente Vedi anche se mio merito sostiene il contrario Non c'è via d'uscita per te Mi descriva com'era questo poliziotto L'attendente ricorda che era un bianco, alto E con una cicatrice sulla guancia sinistra Bianco Sarà uno di quelli che hanno già tentato di uccidere suo padre I suoi connazionali dove abitano di solito? A Notting Hill Notting Hill Signor Templar Ha vinto lei, Mara Vi aiuterò, ma vi costerà molti soldi Lei salvi Joy E avrà tutto quello che desidera Non sarà lei a pagare il conto Lo salderà suo padre Gli costerà parecchio Tutto a posto, Alfred Ci stanno aspettando Qualcuno mi ha riferito che lei fa un po' troppe domande Mi permetta di darle un consiglio Stia lontano da questo posto Altrimenti scoprirà che Non sempre gli assassini falliscono il bersaglio E ora fuori Prima le darò anch'io un consiglio Dica all'uomo dell'amuleto che è spacciato Io l'ho visto e quando lo troverò lo ucciderò E voglio che sappia che mi chiamo Templar Simon Templar Ora posso andare Alfred, è là fuori? Sì E allora dagli questo Ma cosa dici? Il tuo amico ha sbagliato, Conobono Può crearci dei seri problemi Lo voglio morto E alla svelta Mannello Dyson A quanto pare lei mi ha preso per uno stupido Se voleva pedinarmi Perché non ha incaricato qualcun altro? O i suoi uomini sanno solo uccidere? Signor Templar Templar Non la stavo pedinando O Bono mi ha ordinato di proteggerla E con lui non si discute, lo sa Gli dica che non ho bisogno di lei Perché non glielo dice lei stesso? Proteggere Simon Templar È la cosa più difficile che abbia mai fatto Serviamo allo stesso padrone Perché non si fida di me? E chi mi assicura che O Bono si fida di lei? Lei è pazzo almeno quanto O Bono Qualcuno molto vicino a O Bono Ha informato l'assassino Che quello era un sosia E che lui invece entrava Dalla porta di servizio Hai idea di chi possa trattarsi, colonnello? Chiunque lo abbia frequentato ultimamente Ha usato così spesso un sosia Che ne ha conoscenza mezzo mondo Ora ascolti Templar Quel megalomane È il mio pane quotidiano Io sono il suo uomo E sono odiato quanto lui Se lui morisse Cosa potrei mettermi a fare? Quindi perché dovrei volere la sua morte O quella di suo figlio? D'accordo, mi fiderò Grazie E ora che facciamo? Proprio niente Beh, il tempo è dalla nostra parte È già qualcosa E inoltre con un riscatto di un milione di dollari I rapitori avranno il buon senso di capire Che O Bono non pagherà Fì che non gli daranno il ragazzo Quindi lo terranno in vita Almeno un po' Accidenti, fa presto Spendo un patrimonio per le guardie del corpo E loro si lasciano sfuggire il messaggio Sono un branco di imbecilli Non sanno niente del rapimento di Gioia Quando tutto sarà finito li impiccherò Papà Tra qualche istante un uomo ti parlerà Per favore Fa quel che ti dice Ti prego O Bono È diabolico se il tempo è limitato C'è un solo modo per trovarlo in fretta Quello di usare una potente calamita Questa sarebbe così potente Che l'agola finirebbe nel cuore No Non se uno se l'aspetta, colonnello Signor Templer Mi dia ascolto Non sia così imprudente Anche se il nostro uomo abboccherà all'amo Sarà spaventato E quindi guardingo Non lo prenderà facilmente Se poi è un fanatico Si ucciderà Tenga questa Potrebbe esserle utile Non voglio armi Né per lei Né per me Un assassino morto Non ci servirebbe a niente Sono stato chiaro? Sì signore Non dovevo aver paura Avrei dovuto tornare indietro e ucciderlo Senza esitazione Stai perdendo tempo Alfred ti dà la caccia Templer ti sta cercando E mi troverà prima di quello che pensa Tu sei matto Senti figliolo Hai una sola possibilità di cavartela Devi scappare Scappare? Per andare dove? Finché Templer resta vivo Io sono spacciato Lui mi ha visto Lo capisci? Mi ha visto in faccia E deve morire E Alfred? Al diavolo anche lui Mi ha visto in faccia C'esto che c'era E sono Interma Vabbè! 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 Stai sprecando un colpo! Potrei farlo subito! Forse prima è meglio fare quattro chiacchiere, non credi? Va contro il muro e sta fermo! Non sei nuovo a queste cose, vero? Può darsi che Obono meriti di morire, ma rapire suo figlio non aiuterà certo la tua causa. Non fare quella faccia da innocente. Se non restituirai subito quel ragazzo sano e salvo, i massacri di Boleda diverranno delle gite di piacere in confronto a quello che accadrà. Io non so di che cosa parli! È così, eh? Bene, hai avuto la tua chance. Ora muoviti, andiamo alla polizia. Coraggio, ci stanno sparando a dos. Dirich, dentro saremo al sicuro. No! No! Io cercavo di uccidere. O Bono. Non il ragazzo. Io non volevo rapire adesso. D'accordo. Ma per chi lavori? Chi è che vuole uccidere O Bono? Bu... L'Onno. Bu... L'Onno. Cos'è successo? Qualcuno gli ha sparato. Proprio in mezzo alla schiena. Molto abile. Chi è stato? Credo quello che l'ha assunto per uccidere O Bono. Se le interessa ha sparato un colpo anche a me. Prima che lui parlasse? Mentre parlava. Che cosa ha detto? Che era estraneo arrapimento. Beh, è normale. Sì, ma ho l'impressione che dicesse la verità. Comunque la sua idea ha funzionato molto bene. Ma ci ha fruttato solamente un cadavere. Che ne faremo adesso? La sua macchina è sul retro? Sì. Bene. Lo metteremo nel bagagliaio e poi lo caricheremo sulla sua, che è giù nella strada. Ma se ci prenderanno non si aspetti che l'aiuti, eh? Colonnello, questo è sottinteso. E O Bono non le darà nessuna medaglia, non si illuda. Siamo in un vicolo cieco. Io non direi. Bulonno. Le dice qualcosa? Sì, sì. Certamente. Lei parla il dialetto buledano? No, ma lui sì. È l'ultima parola che ha pronunciato quando gli ho chiesto chi lo pagava per uccidere O Bono. Ha detto bulonno. Che significa? Significa grande zio e il nominio l'ho usato per O Bono. O Bono? O Bono pagherebbe qualcuno per uccidere se stesso. È semplicemente ridicolo. Ti ripeto le istruzioni. Devi predisporre il trasferimento di un milione di dollari come pattuito entro 72 ore sul conto che ti abbiamo comunicato. Come segno della tua buona fede, 25.000 dollari dovranno essere lasciati dove, quando e come ti abbiamo già segnalato. Niente trucchio, Bono. O tuo figlio morirà. Lei riconosce questa voce? No. 72 ore sono troppo poche. Possono bastare. Può procurarsi i 25.000 dollari per domani pomeriggio. Bene. Colonnello, lei dovrà recarsi a Ginevra, restare là qualche ora e tornare per le sei in punto. Ma che senso ha andare a Ginevra se non ci sono i fondi? I rapitori questo non lo sanno e più tardi lo scopriranno, meglio sarà. Credo che John abbia ragione. E se lei non avesse agito di testa sua, quell'uomo sarebbe ancora vivo. La tua opinione non mi interessa, capito? E nemmeno la sua. Uscite tutti e due. Un giorno, signor Presidente, lei finirà per contrariarmi, credo. Quando lo farò, colonnello? Non le lascerò il tempo di vendicarsi. Ora fuori! Spero lei sappia cosa sta facendo. Può giurarci. Vuol dirmi cosa ha intenzione di fare? Manderanno qualcuno all'aeroporto per controllare che Dyson parta davvero e io sarò lì, però non lo dica al colonnello. Non si fida di lui? Io non mi fido di nessuno e questa è la mia forza. Lei si diverte, non è vero? Per lei non è che un gioco. Ma ora sta giocando con la vita di mio figlio. Anche mandarlo a passeggio è stato un gioco. D'accordo. Ormai sono nelle sue mani. Ma ascolti cosa le dico. Se mio figlio perderà la vita, non troverà angolo della terra dove nascondersi ai miei occhi. Da buon giocatore d'azzardo, mi chiedo quante probabilità abbia di vivere così a lungo da riuscire a mettere in atto le sue minacce, signor presidente. Sì, signor presidente. Grazie a tutti. 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 Come lo spiega? Non c'è niente di strano. Si è comportato come un idiota e glielo ho detto. Suo padre lo sa? No. Lei ama vivere pericolosamente, vero? E lui approverebbe? E lui approverebbe? No, io credo che la prenderebbe molto male. Perderai il posto e salverei la pelle solo perché siamo in Inghilterra. Se vuole andare a riferirglielo, potrebbe anche offrirle il mio lavoro. Sì, lo so, io lo so, io potrei anche accettarlo. Mentre rifletto su questa opportunità, lei si ricordi che stasera alle sei ha un appuntamento. Cerchi di rispettarlo se ci riesce. Sì, lo so, io lo so. Sì, lo so. Sì, lo so. Questo è il nostro uomo, o meglio uno di loro. È senza cicatrice. Complimenti, l'avevo sottovalutata. Le sue lodi sono molto disinteressate. Grazie per non aver riferito a Obono di me e Mara. Sai come si dice ai galli? Non alzare troppo la cresta. Comunque è incoraggiante sentirsi lodare da lei, colonnello. Che cosa farà adesso? Ma svilupperò una foto di quest'uomo e la porterò a un mio amico a Scotland Yard sperando che voglia aiutarmi. Hai la maledetta faccia tosta di entrare qui dentro esigendo di vedere le foto segnaletiche e poi ti rifiuti di dirmi il perché. Jim, sapevo che avresti capito. Oh sì, ho capito. Sei di nuovo nei guai. Vedi, a me i guai piovono addosso, lo sai com'è. Lo so, ah sì, lo so. Il reparto speciale mi ha riferito che frequenti l'entourage del presidente Obono. Mi tenete d'occhio? Stamattina un uomo di colore sconosciuto con una pallotola nella schiena è stato trovato, vediamo se indovini dove. Vieni al sodo. A cento metri da casa tua. Come piccolo il mondo. Sospettosamente piccolo. Perché vuoi vedere le foto segnaletiche? Ma vorrei prevenire un crimine che se avvenisse causerebbe un sacco di guai. E naturalmente è qualcosa che tu puoi risolvere meglio di noi. Per il momento sì. Ma appena ne saprò di più, hai la mia parola che ti metterò al corrente. Pensa Jim, se giochiamo le carte giuste potrebbe scapparci una promozione. Una promozione? Hai sentito Jenkins? Il signor Templar mi offre una promozione. Allora è diverso. Serviti pure amico, stanza 234, di che ti mando io. Grazie Jim, ma non te ne pentirai. Pentirmene? Non vedo l'ora di chiamare mia moglie, la porto a Monte Carlo stavolta. Ha deciso davvero di aiutarlo, signore? Non ho molta scelta, sergente. E poi perché no? Può darsi che arrivi la promozione. So che non è semplice, ma ho bisogno di sapere se quest'uomo è già schedato. E questa dove l'ha trovata? Su un albero, perché... Non ho bisogno di cercare là dentro. Michael Wright, condannato a 12 anni per rapina in una banca. Voglio trovarlo. Insieme ad altri 10.000 poliziotti. È scappato dal carcere sei mesi fa ed è scomparso. Arriva la cena. Oppure vuoi stare ancora a dieta, eh? No, stasera mangio. Ah, sei proprio un bravo ragazzo. Vieni qui. Sei uno sciocco, Joey. Quante volte devo dirti che per te non c'è nessuna via d'uscita, eh? Bene, allora starai senza cena. Chi sei tu? Perché mi odi così? Chi sono io? Poca cosa ormai. Non certo quella di una volta, ma alcuni anni fa ero la donna del tuo papà. Non ti degnerebbe di uno sguardo. Mi ha più che guardata, carino. Finché non è arrivato in fondo e mi ha detto addio, Rose. Ma ha sbagliato. Doveva uccidermi. Si pentirà di non averlo fatto. Vuoi sapere perché ti odio? Ora te lo dico. Quando mi hanno caricata su quell'aereo, oltre alle mie ricchezze, ho dovuto lasciare in quella terra una cosa che mi era molto cara. La più cara di tutte è mio figlio. Figlio? Sì. Il tuo fratellino maggiore, caro Joey. E se devo dire la verità, ti somigliava parecchio. Era bello come un angelo. Vuoi sapere dove è finito? Giace laggiù, in una tomba senza lapide. Vuoi lasciare in pace quel ragazzo? Oh, stavo solo chiacchierando. Solo chiacchierando. Ah, Templar. Qualcuno le ha sparato di nuovo? Sì. Dio. E di Joey. Ha qualche notizia da darmi? Sì, ha già identificato il rapitore. Ma ho bisogno di tempo, lo sa. Ma quanto tempo? Io, io devo dirle una cosa. Alla conferenza di lunedì rilascerò alla stampa una dichiarazione. Oh, sì. Ci andrò anche se dovesse costarmi la vita. Annuncerò a tutto il mondo che non sarò più il presidente di Bulaida. Si dimette. Come presidente. E dichiarerò me stesso re imperatore. Così quando morirò, mio figlio Joey diventerà re al posto mio. Me lo trovi, Templar. Me lo riporti vivo. Vede, sto quasi per morire. Non riesco a credere che debba morire. Non me ne ha mai parlato. Papà gliel'ha detto. Quanto manca? Al massimo qualche mese, forse meno. È stupido, vero? Che qualcuno sia venuto da lontano per ucciderlo. Senza alcun bisogno. Senta. E se accadesse il peggio? Se lui morisse prima di riavere Joey, chi regnerebbe allora? La sua unica figlia vivente diventerà regina. Che Dio la protegga. È l'ultima cosa che lei desideri. Ma speriamo di non arrivarci. Eh? Pronto? È pronto, Simon? Sono Winston. Ho ricevuto il tuo messaggio. Mi dispiace, ma ero fuori. Sì, certo che posso risponderti. Io sono di Buleda, no? Cosa? Puoi ripeterlo? No, no, è tutto chiaro. Sta tranquillo. È facile, sai. Capisco, va bene. Grazie, mi sei stato di grande aiuto. Ah, Winston, mi porti un po' di mango? Beh, come andiamo? Andiamo di fretta. Quella telefonata le ha dato un indizio? Sì, potrebbe darsi. Avanti, andiamo. Dove? Nei quartieri malfamati. Lei mi costringe a chiederle cosa stiamo cercando. Sid Reiter, un mio vecchio amico. Baccia la terra dove poggio i piedi. Salve, Sid. Tu, esci subito di qui. Che le avevo detto? Mi adora questo ragazzo. Cosa vuoi da me? Fare un tetto a tetto, Sid. Ti avevo detto di non mettere più piedi qui dentro. È vero, me l'ero dimenticato. L'ultima mia visita è stata movimentata. Un vaso cinese è volato dalla finestra ed essendo rubato non ha potuto chiedere il rimborso all'assicurazione. Cosa vuoi? Michael Wright. Mai sentito nominare. Pensaci bene, non ho fretta. Michael Wright, fuggito dal carcere e sparito. Dove? Non l'ho mai sentito nominare. Devo rompergli un braccio? Ma cosa dice? Un masochista gli piacerebbe. L'unico modo per farlo urlare è di rompergli tutta la cineseria. Provaci e io ti manderò al creatore. Prima o dopo che Scott Landiard avrà controllato tutta questa roba che risulterà regolarmente rubata. Coraggio, Sid. Ti concedo due minuti prima di metterti fuori uso per sempre. Allora? Chiedi ai fratelli Bentley. So che hanno lavorato per lui. E giuro che questo è il solo aiuto che posso darti. Uno di loro ha una cicatrice sul viso? Sì. Dove abitano? Al numero 30 di Layton Street. È lontano? Circa dieci minuti, in macchina. Bene. Speriamo che ci siano. Li chiamerai al telefono e gli dirai che hai notizie da parte di Michael Wright ma che non puoi parlare da dove sei e che li richiamerai più tardi. Ma io non posso... Non parlare, Sid. Ascoltami. Poco dopo li richiamerai dicendo che sono nei guai consigliandoli di andare da Wright al più presto se vogliono avere i loro soldi e avvertendoli che il suo telefono è sotto controllo. Tu non li conosci. Quelli mi rovineranno. Non nei prossimi 25 anni. Devono scontare una condanna per omicidio. Su, coraggio, Sid. Colonnello, questa è meglio che la tenga lei. Al nostro amico potrebbero venire strane idee. Voglio che lei resti qui e sia certi che faccia la telefonata. Non può andare da solo. Potrebbe avere bisogno di aiuto. Mi piacerebbe, ma qualcuno deve pur restare. Perché non resta lei? Sono stufo di fare da tappabucchi. Ordini, colonnello. Pronto? Fred e Jim sono lì? Ah, Fred, sono Ryder. Senti, devo parlarti di una cosa molto importante. Ma non posso farlo da dove sono. No, preferisco che tu non ti muova. Ti richiamo io tra un quarto d'ora circa. Si tratta di Mike. No, non puoi fare niente se non conosci tutta la faccenda. Sei stato molto bravo. Sono spacciato se non li prendi. Lo farò. Sta tranquillo, Sid. A più tardi. E non lo perda d'occhio. Non credo ci sia bisogno che io la sorvegli, signor Ryder, vero? Lei non mi deluderà, perché potrei anche arrabbiarmi se lo facesse. Ehi, ragazzi, che fretta abbiamo. Avanti, bestiaccia, cammina. Se Mike ci ha traditi, io... Sta calmo. Sid non ha detto questo, ma solo che siamo nei guardi. Da un'occhiata se ci seguono. Ehi, ragazzi. Ehi, ragazzi. Ok, tutto a posto. Continua a guardare dietro. Ok. Non mi interessa niente dei suoi soldi. Voglio solo che quell'uomo soffra come ho sofferto io. Piantala adesso. Mike, abbiamo fatto più presto che vocevamo. Ma siete matti? Vi ho detto di non venire mai qui. Lo so. Abbiamo avuto il tuo messaggio. Da Sid Reiter. Diceva che siamo nei guai. Reiter? Non sa neanche se sono vivo. Perché non avete telefonato? Ha detto che il tuo telefono era sotto controllo. Che stupidi. Probabilmente qualcuno vi ha pedinato. No, ma perché ci prendi? Abbiamo tenuto gli occhi aperti. Quali sono questi guai? Voi. Vi hanno fregati. E ora andatevene. Restate nascosti finché non mi faccio vivo io. Senti. Fuori. Sì, e speriamo che non ci abbiano scoperti. Ehi, cosa sta succedendo? Ma guardati che schifo sei. Mettiti un po' a posto e prendi il ragazzo che ce l'andiamo. Ma cosa ti prendi? Questa storia non mi convince. Vado a prendere la macchina. Su, avanti. Non fare storie. Venga con me. Forza. Bene, Joey. Sei quasi libero. Resta qui e tieni giù la testa. Butti via la pistola, signor Templar. E ora alzi le mani molto lentamente. Sta migliorando, colonnello. Diventerai il primo della classe. Imparo alla svelta io. Ma lei non sembra molto sorpreso. Voglio confidarle un piccolo segreto. Non lo sono. Non ho niente a che fare con il rapimento. Lo so. Lei aveva preparato il piano per uccidere Obono prima ancora di sapere che era un uomo già spacciato. Il rapimento è stato un colpo di fortuna. Visto il risultato, sì. Così, lei ora ucciderà me e il ragazzo e ne incolperà i rapitori. Poi, quando Obono morirà di morte naturale, Mara diventerà regina. E vediamo se riusciamo a indovinare chi avrà il vero potere. Lei è bravo come primo della classe. Quando l'ha scoperto? Non da molto. Un mio amico africano mi ha stato di grande aiuto. Mi ha detto che bulonno significa in realtà grossa rana bianca. È il nomignolo che usano per definire lei, colonnello. Sapevo che esisteva il rischio che lei lo scoprisse. Sono stato colto di sorpresa e ho dovuto improvvisare. Ma tutti possiamo fare degli sbagli. Uno dei suoi è stato di non uccidere subito l'assassino e l'altro è stato di avermi mancato. Le ho sparato da un'angolazione molto difficile. E stavolta non mi mancherà, vero? Mi spiace, signor Templar. No, non lo dica. Spari pure. Coronnello, sono davvero mortificato. Sì, ha dimenticato di dirle che quella pistola era scarica. Joey, ora va a quel telefono e fai il 999 chiedendo dell'ispettore Torto e biscotto l'andiazza. Digli che qui c'è tanta bella gente. O forse dovremmo dire brutta. Dunque io non contavo niente per lui. Non lo interessano i sentimenti degli altri. Lei era il passaporto per l'unica cosa a cui tenessi, il potere. Io non so come ringraziare. No, la prego. Basta così. Ora, se non le dispiace, io avrei alcuni affari da discutere con suo padre. E cioè? Dov'è? Prima le cose più importanti. Adesso dobbiamo discutere la mia parcella. Sì, sì, d'accordo. Quanto vuole? 25.000. Pagamento in dollari? No. Vite, signor Presidente. Chiami il capo della polizia, Buleda, e conceda subito un'amnistia a tutti i prigionieri politici. Non può pretendere una cosa simile. Perché no? Non si può certo uccidere un uomo morto, non è vero? Sarebbe un po' difficile, non crede? Voglio il capo della polizia. Lei è stato grande, signor Templar. Mi insegnerebbe a fare un po' di judo? Sì, la prima lezione domattina. Ora va, tuo padre ti sta aspettando. È un peccato che debba soffrire. Se ne dovrà occupare lei, lo sa? Beh, dopo di lei, maestà. La prima lezione domanda è un po' di judo. Sì, la prima lezione domanda è un po' di judo. Sì, la prima lezione domanda è un po' di judo. Sì, la prima lezione domanda è un po' di judo. La prima lezione domanda è un po' di judo. Sì, la prima lezione domanda è un po' di judo. Venezia, regina dei mari. Città di sogno e di mistero, dove il grande Casanova passò la maggior parte del suo tempo in prigione o fra le braccia della moglie di un altro. E dove anche la prima colazione è un fatto romantico. Ma non fatevi idee sbagliate, potrei essere suo zio. Suo padre, infatti, è il mio migliore amico. Salve. Buongiorno, come sei matteniera? Oh, Simon, è così bello. Non vedevo l'ora di alzarmi. Voglio visitare tutta la città. La visiterai, ma non prima che abbia fatto colazione. Vuoi fare una colazione all'inglese? Certamente. Ho bisogno di tutte le energie per stare con te. Breakfast. Subito, signore. Sono felice che tu mi abbia portato. Papà non mi avrebbe mai fatto venire da sola. È naturale. Sei una ragazzina che è appena uscita da scuola. Gli uomini qui non si limitano a farti la corte. Puritano. Certo che lo sono. Cosa credi? Tirerò un sospiro di sollievo quando verrà a prenderti domani. Sento già nell'aria qui intorno il ribollire del sangue italiano. Idiota. Al telefono, signor Templar. Può rispondere dal bar. Va bene, grazie. Scusami. Ti prego, fa presto. Pronto? Pronto? Non c'era una chiamata per me? Sì, certo. Per il signor Templar. Un uomo. Ma in ogni caso, non c'è nessuno ora. Senta, la signora che era seduta qui, dov'è? Se n'è andata, signore, con un uomo. Un uomo? E chi era quest'uomo? Dove sono andati? Ho visto che si allontanava, signor Templar. Molto in fretta. Sono un uomo morto che parla. O meglio, un uomo che tu pensavi fosse morto. Mozambico, cinque anni fa. Mi riconosci, vero Templar? Jed Blackett. La ragazza è con me. Morirà tra sei ore se nel frattempo tu non riuscirai a trovarmi. Che ne dici? Se succederà qualcosa a Linda, io ti ucciderò, Jed. Spero di essere stato chiaro. Vieni a prendermi. Devo sapere se è ancora viva. Voglio parlarle. Simon, sono io. Non capisco niente. Se vai alla polizia, ucciderò subito la ragazza. Hai esattamente cinque ore e cinquanta minuti. Ti pare più che abbastanza per il grande Simon Templar? Non capisco niente. Non capisco niente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allora parlami di Guido Mantegna Le costerà più di un giretto in barca Ma questo lo immaginavo Meno male che lei è intelligente Perché vede quando uno che viene da fuori Senta, vogliamo affrettarci? Sì, signore Perché vuole vedere il padrino in persona? Sous-titrage Société Radio-Canada Vieni Ho detto vieni Voglio mostrarti una bella cosa Hai mai visto un collare elettronico Che risponde ad impulsi acustici? Visto? Visto? L'hai visto? L'hai visto bene? Oh no, la sopplico Ora mettiti a gridare forte O fa un movimento all'improvviso Ed ecco cosa accadrà Quello Tuo bel collo soffice Si spezza la spina dorsale Morte in dieci secondi, chiaro? Sì 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 Ok In gondola Dentro Cosa volete? Voglio vedere Guido Non puoi vedere Guido Ma lui mi conosce Ho detto che non potete vederlo Ehi No, così non va bene Fermi Bene Tirate fuori le pistole Molto lentamente, d'accordo? E gettatele in acqua Vi sentirete più leggeri Magnifico Oh, ecco che arriva il nostro bagnante Allora Accompagnatemi dal vostro capo E vabbè Così Lui è il santo Cosa dovrei fare? Mettermi in ginocchio e pregarlo? Perché dovrei aiutarlo? Un lorido porco Che entra di prepotenza in casa mia E picchia i miei servi Servi? Allora perché non ordini Che si tolgano dai piedi? Tu puoi essere il santo Ma in questa città io sono Dio Dio! Hai capito? Io ti potrei benissimo schiacciare come una mosca Sì, ma non in questo momento Non credo Io ho un esercito in quest'isola Basta che faccia solo così Allora dovrò Mirare alla tua testa Questo è un povero pazzo stanco della vita Che cosa vuole da me? Sta cercando un uomo Insomma sta cercando un uomo Che ha rapito una ragazzina appena uscita di scuola E se non la trovi in tempo Lui la ucciderà Quest'uomo che stai cercando Sai come si chiama? Jed Blackett Non credo sia così che si fa chiamare a Venezia Ma allora lo conosci Ma lo fa per uccidere te forse? Certo, per vendetta Ah È un mercenario Sadico anche È già ricercato dalle polizie di mezzo mondo Ha combattuto le più sporche guerre di questi anni Iniziò cambiando bandiere in Vietnam Poi andò in Africa Ucciderebbe il suo nipotino Con la stessa indifferenza con cui beve un caffè E vuole ricattarti così Servendosi di una ragazzina che va ancora a scuola Sì esatto E devo trovarli prima delle cinque Luigi Parolin Lui può dirti dove si trova Quel vigliacco di Jed Blackett Ecco il suo indirizzo Non è molto facile arrivarci Conosci il posto? Mi Ringraziate il cielo Che conosco tuo zio Se ritorni da queste parti Ti farò uccidere La corsa sale sempre di più col passare del tempo Non deve preoccuparsi Ah non mi preoccupo È lei che poi deve pagare Senza soldi non si fa la guerra Cosa succederà quando incontreremo questo Blackett? Beh lei scapperà nel primo buco che trova E pregherà che io lo faccia fuori Questa ragazzina È davvero così piccola? Ha solo 18 anni 18 anni? E lei la chiama piccola? Non può andare più veloce Se non le piace come guido Può scendere e andare a piedi Mi scusi Capisco cosa provo È che c'è un limite di velocità qui Non voglio perdere la licenza Sì lo so Pazienza È lì che abita Luigi Parolin Il più famoso borseggiatore di Venezia No mi dispiace Non lo conosco Jet Blackett Ci hanno detto di sì Eh non posso aiutarvi Guido E dice che ti ho conosci Guido E ha la sua scrittura no? Canal Perugino Vecchio palazzo Mazzini Appartamento 4 Se Blackett Viene a sapere che ve ho gotito Non aver paura Andiamo Luigi Ti sei un uomo E la mamma come sta? Ola sta bene E i fioi anche? Togna il diventerà un grande nord Ti vedrà Beh se vedemo Ah Luigi Sì Non c'è bisogno che entri anche lei. Ma se la uccidono chi pagherà la mia corsa? Tenga qui. Ah, molto bravo. Non so perché, ma è stato troppo facile. Non è il tipo di seratura che Blackett metterebbe alla porta. Indietro. Templar, ci sei? Ci sei, Templar? Ci sono. Mi dai una brutta notizia. Non so, speravi che io fossi diventato improvvisamente stupido. Geniale. Tu sei sempre geniale. E tu sei sempre abilissimo con l'elettronica. Per questo sei forte nelle città. Fuori e all'aperto sei per me. Ascolta, Templar. Posso prenderti dove e quando voglio. Ascoltami tu adesso. Voglio parlare a Linda. È passato del tempo ora. Io le rivolgerò una domanda e voglio la sua risposta. E rifaremo la stessa cosa ogni ora. Non potrà incidere la sua voce sul registratore facendomi credere che è ancora viva, d'accordo? Pronto. Simon. Mi ha detto che ti aveva ammazzato con la ghigliottina. Io credevo. Credevo. Coraggio, Linda. Non devi aver paura. Sono un ottimo giocatore di scacchi. Stai bene? Sì. Di che segno sei? Capricorno. Simon. Templar. Scusami per non averti aspettato a casa mia. Eri così sicuro che avrei trovato il tuo indirizzo? Combatti un uomo una volta e conoscerai il suo stile. Non credo, Jed. Non credo. Piccioni. Eh? Sì, erano dei piccioni. Ecco cosa sentivo in sottofondo mentre lui parlava. È a San Marco, allora. Già. Già. Va dentro. Dimmi solo una cosa. Perché vuoi uccidermi? Uccidere la gente è il mio mestiere, ma questa volta lavoro per me stesso, mi diverto. Perché lui ti ha abbandonato in Mozambico? Fu fortunato, ma stavolta non sarà così fortunato. Simon, da quello che mi ha detto mio padre, non ha bisogno di fortuna con uno come te. Senti, per me è un gioco da bambini farti a pezzi, perciò è meglio che tieni chiusa quella boccaccia. Claudia, è inutile che andiamo così forte, rallenta. Non posso, non posso, guarda. Qualcuno ha bloccato l'acceleratore. Guardalo ai fuori, vuole il cuore. Stato detto, disermati! Furi! Disgroscio! È stato blecata, mi hanno messo l'accensione. Da te! Vengo dietro, motoscafo! I fili, dove sono? Non c'è Paul, c'è il lucchetto per i ladri. Ah, magnifico. Guarda, non si può passare! Salta! Mona, sono stata una mona a imperagarmi con ti. Guarda, guarda il mio motoscafo. Bu, finio. E non ho neanche finito di pagarlo. Come faccio adesso, come i fioi, come i fantoini, eh? Come faccio? Tu non hai nessun fantolino. Jed, ora ti stai ripetendo. Hai fatto la stessa cosa in Africa con la mia jeep, ricordi? Ah, re, mingo. Linda, mi senti? Sì, sai. Come si chiama il tuo cane? Ergo. È il mio motoscafo. Hai visto? Ti ho detto che è più bravo di te. Attenta. Ricordati cosa fa quel piccolo aggeggio se grido troppo forte. E lui ha già sprecato tre ore preziose. È uscito, meno su altro. E non sapete niente di un certo Blackhead? Dove va? Chi frequenta? No, signor. Luigi non mi dice mai niente. Andiamo. Ora basta, devi procurarmi subito una barca. Ah, ce ne comprerò una nuova. Neanche loro hanno visto Luigi. Vieni. No, oggi non l'ho visto. Tu a sto punto mi devi cinque anni della mia vita. Te li restituirò. E se lo vede, gli dica di chiamarmi, d'accordo? Ho freddo. E io ho caldo? Come sta con le tue mutande? Bene, come se fossero tue. Eh sì, sta proprio bene. Blackhead non era a casa. Non era la chiesa di Santa Maria della Spina. Claudia sa dove si trova. Portate i soldi. Tanti soldi. Ehi. Per andarci ci vuole una barca. E io non ce l'ho più, ricordi? Signor Templar. Sono io. Una firma, prego. Grazie. Ma cosa... Ora hai di nuovo una barca. Vuoi dire che quella lancia... È a te mia? Sì. Claudia. Abbiamo soltanto due ore e mezza ancora. Sì. Abbiamo soltanto due ore. Sì. Bellissi. Sì. 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 Luigi? Luigi? No! Era una trappola e noi ci siamo cascati. Ecco un'altra cosa in cui è molto abile, gli esplosivi. Che razza di uomo in una chiesa. Dio mio, Luigi. È stata colpa mia. Non ho più voglia di giocare, andiamo alla polizia. Non andiamo affatto alla polizia. Allora io me ne vado. Quell'uomo è un mostro e tu sei un matto. No, ha previsto tutto e alla fine ci ucciderà. Tieni, le chiavi della tua lancia. Claudia, è tua la lancia. Taxi, signore. Io sono veneziana. E anche la mia vendetta adesso. E poi penso a quella povera ragazza. E penso a te che sei in pericolo. Ci restano appena due ore scasse. Lo so. Senti, se tu ora fossi al posto di Linda, cosa cercheresti di fare? Io credo che... Non so, cercherei di darti... Qualche indizio. è volata via un'altra ora, Templer. Passami, Linda. Fa una mossa falsa e sei morta, bellezza. Linda, dove vorresti essere in questo momento? Io in questo momento vorrei essere a... Non riprovarci. Ricorda bene che non devo fare altro. Che gridare, carina. Ehi! Hai visto quel cane? Ah, un bel cane! Ma dove diavolo saranno? Quel grido! Quel grido, sì! Quale grido? Ah, ecco quale! Oh, è Pope! Mi pareva di averlo sentito poco fa mentre parlava. Ma non ero sicura. Si sentiva distintamente anche il vaporetto. Saranno sul Canal Grande. Cosa aveva cominciato a dire, Linda? Io vorrei essere... Ecco cosa che voleva dire. Io vorrei essere in una gondola. Sono in una gondola. Ma non è affatto certo. Potrebbero anche essere in un appartamento con vista sul canale. No, non credo. Si spostano in continuazione. Hai ragione, sono sul canale. Cos'è che ti ha fatto diventare così? Perché? Mio padre era un ubriacone, mia madre una puttana. E poi... Mi piace così. Mio padre è molto ricco. Ti darà un mucchio di soldi se mi lasci andare. Non c'è cifra al mondo che possa riscattare la vita di Templar. E io ho bisogno di te. Per prenderlo. Sai come si chiama questo? Si chiama Felze. E allora che c'entra? Nei secoli scorsi... ...gli aristocratici si nascondevano in questo modo. E così protetti facevano l'amore. Chi poteva vederli? Più tardi forse. Prima di ucciderti. Ma quando sono andata la vostra cittata da fotografia. E poi? È lui? È lui? großen l'elicottero non è tuo adesso non potrai chiedermi altri soldi è mio cugino vada sul canal grande adesso segue il canale la città l'osso 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 come mai quella gondola le tende abbassate in una giornata così è un po strano si avvicini avanti l'osso 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 Come, come, come! Come, come, come! Come, come, come! Come, come, come! Come vanno le tue gambe, fratellino! Se tu fossi ferito Templer, credo che non me lo diresti mai! Ti avevo sottovalutato, Jed. Ti credevo un deficiente, ma sei molto di più. Sei un pazzo. Ascoltami bene. Non mi ci vorrà molto per ucciderla adesso. Sì, ma non lo farai. È me che vuoi. Passami, Linda. Voglio sentirla. Stai bene? Sì, ma credo che sia un po' tocco. Ti avevo avvertita. Oh, no. Ti prego. Lo so, Blackett. Sei sempre stato forte con le donne. Vero. Il tempo sta passando, Templer. Hai poco più di un'ora. Perché continui a provocarlo? È pericoloso. Vuoi proprio che uccida la ragazza? Blackett ha bisogno di essere provocato fino all'esasperazione. E poi non credo che ucciderà la ragazza. Lui vuole uccidere me. Perciò la terra è in vita come esca. E in questo modo sarà lui a darmi la possibilità di farlo fuori. Che significa un po' tocco? Ha voluto darti per caso un'indicazione. Significa che è pazzo. Eh? Pazzo come una campana. Cosa? Pazzo come la campana della torre. Campana della torre? Torre dei Mori. La torre dei Mori non è in piazza San Marco. Si trova sopra le mercerie con le due statue che battono i colpi. Era un'indicazione. Andiamo. La torre dei Mori non è in piazza San Marco. Sì, no. La torre dei Mori non è in piazza San Marco. Maremeco! Cosa fana? Guardi me l'ottoscafo! Ma vado, Mareco! Dieto mare! Andiamo! Ehi! Hai letto il messaggio, Tembler? Spero di sì. I piccioni non te lo lasceranno per molto tempo. Pensavo ti interessasse sapere il nome di un'isola deserta, dove andrò a uccidere la ragazza. Un posto particolarmente adatto. C'è un vecchio forno crematorio sull'isola, è quello che mi ha dato l'idea. Dopo tanti secoli sarà il primo falò ad ardere. A proposito, non è facile trovare quest'isola. E ti restano soltanto 40 minuti. Ci sai andare? Sicuro che lo so. Andiamo. No, prendiamo questo, è il più veloce. Esci. Se vuoi uccidermi fallo ora, ti prego. Ora. Sì, ma non c'è fretta. Adesso vieni fuori. Non hai più bisogno di questo collare, mia cara. Ma è impossibile che un uomo uccida così e per di più chi non conosce nemmeno... Dove sei vissuta fino a oggi? All'asilo? All'asilo? Ehi, è quella! Guarda, proprio come in India. Solo che in India sono già morti e invece tu sarai viva. Sacrificherò al santo un bel boccolo vivo e lui ne sarà grato. Guarda, deve essere la sua barca. A terra, presto! Hai poco più di dieci minuti, fratellino. Non puoi star fermo. Voglio parlare con Linda. Simon, ti supplico, ha preparato il rogo e... E sta per essere cucinata. Arrosto. Tra nove minuti esatti. Guarda, 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 guarda. Fa caldo laggiù, vero, vecchio mio? Fra poco sacrificherò la tua bambina. Hai otto minuti, Templar. Maledizione. Si è preparato bene. Sa come usare le bombe. Anche se... c'è una possibilità di sistemarlo. Dammi soltanto cinque secondi e poi fallo funzionare. Sì. Go capio. Ah. Sta attento. Non aver paura. Ascolta, lascia andare la ragazza, ci sono qua io. Lei non serve più ormai. Dobbiamo combattere noi due. È l'ora della verità. Preparati. La verità è l'ora della verità è l'ora. Forse hai paura di me Non vuoi combattere da uomo a uomo Ma se non accetti questi cinque anni d'attesa per te saranno stati inutili Paura di te? Posso battere vigliacchi come te con una mano sola Voglio dirti quello che succederà Io verrò da te, tu hai paura Le tue mani stanno tremando così forte che non riusciresti a colpire nemmeno un autocarro Mi avvicinerò a te passo passo lentamente con prudenza ma inesorabile Conosco tutti i tuoi trucchi La storia di cinque anni fa si ripete Solo che questa volta ti ucciderò Sono qui Guarda Se lo farai Jed salteremo tutti e due No Templer, la butterò in modo che solo tu diventerai un pasticcio di carne E' lo farai Grazie. Per favore, posso avere un cocktail? No, non puoi averlo. Dovresti già dormire a quest'ora, non stare qui a bere liquori come i grandi. Dopo quello che hai passato? Già. Guarda, che è un collegio femminile inglese, è una scuola che prepara questo genere di esperienze. Ah. L'unica cosa è che non porterò mai in vita mia delle collane. E non so se sarò capace di raccontare la mia avventura agli amici. Perché non cerchi di raccogliere le idee nella tua camera d'albergo? Se non fosse stato... Cosa? Non so come ringraziarvi per... Ci ringrazieresti molto andandotene a letto. Così sarai più graziosa quando arriverà tuo padre domani. Oh no, io voglio venire in giro con voi. Che vitalità hanno i giovani. Mi porti, Simon? Niente paura. Ci rivedremo quando verrai a riprenderti le mutande. Ciao. Oh no, io voglio venire in giro con voi. Oh no, io voglio venire in giro. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Cosa si regala di solito a un giovane rampollo futuro erede di un miliardo di dollari? Ha già tutto quello che vuole E quello che non può avere non puoi certo regalarglielo tu È un rompicapo Già, è un'idea Gli comprerò un bel rompicapo Lo aiuterà a mantenere il cervello in allenamento Buon compleanno Leo Auguri a... Il discorso! Vediamo il discorso Credo che sia meglio che io conservi fiato per la festa che mio padre ha organizzato sabato prossimo Con mille ospiti Non fraintendermi papà Ma questa nostra piccola riunione con te, mia sorella Carla Inga, la mia futura matrigna George e tutti voi altri Siete la mia vera e unica festa L'altra, quella di sabato Sarà solo uno spettacolo per gli estranei Fine del discorso Bravo Bravo figliolo Auguri Beh, ora devo proprio andare Gino, ma voi amici restate pure Inga, ti telefono stasera Auguri per la riunione Grazie Papà, aspetta Cosa vuole ancora il mio caro Rampollo? Lascia che vada io Vuoi venire anche tu? Al posto tuo Ma come tu vorresti trattare questo affare da solo? È molto tempo ormai che ti seguo nel lavoro Credo che sia giunto il momento E penso che oggi sia il giorno adatto per cominciare Questa ha un significato? Sì, certo, ma... Tu mi hai spiegato tutto di quest'affare E io ho capito tutto Sì, ne sono convinto, ma... No, Leo, non questa volta, è troppo impegnativo La prossima volta La prossima volta rimanderai ancora Ho bisogno di cominciare Se fallisco, cosa importa? Perderai qualche milione Che sarà mai? Per una volta in vita tua Vuoi avere fiducia in me? Papà, dagli retta È un uomo ormai Lascialo almeno provare Figlioli, vi rendete conto di ciò che mi state chiedendo? È una trattativa d'affari della massima importanza Appunto per questo Va È magnifico, papà Ti abbiamo convinto Io vado a cambiarla Ehi, aspetta un momento Mi spiace se ti do qualche piccolo consiglio Prima di partire, Leo Va bene, scendi con me A buon viaggio E ricordati cosa ti ho detto Sì, deciso Ok Buona fortuna Ciao 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 Chi c'era lassù? Va a riva Chi c'era lassù? Mio figlio c'era Lei chi è? Un amico di Leo Venivo a bordo a portargli un regalo Mi chiamo Tempra Simon Tempra Mi chiamo Tempra Grazie a tutti. Voglio costruire già. Come può essere successo? Il pilota è stato fatto a pezzi dell'esplosione. Ah, povero Matteo. Vede, ero io che dovevo partire. Dovrei esserci io là dentro. E' stato senz'altro sabotato. Sabotato? Ma da chi? Lo scoprirò anche se mi costasse miliardi. Tutti quelli che ho. Lo scoprirò e lo ucciderò con le mie mani. No, papà. Chiama la polizia. Ti prego, ascoltami. No, farò a modo mio. Giuro che la pagheranno. Dov'è Falco? Pensa anche lei che potrebbe essere un sabotaggio. Non lo so. Ma lo scoprirò. Falco mi sta aspettando. Va bene, può passare. Buongiorno, signor Falco. Buongiorno. Come sta, Leo? E' ancora grave. E' stato molto sfortunato. Crede si tratti di sfortuna? Pensa a un sabotaggio? E' impossibile. Signor Falco, tutto è possibile. Non quando io sono incaricato della sicurezza. Aveva perquisito l'elicottero. Sì, mezz'ora prima del decollo, ogni centimetro cubo. Il serbatoio l'aveva controllato. Bastava sabotare quello, non le pare? E chi l'avrebbe fatto? L'uomo invisibile? E per chi non un uomo del suo equipaggio? Templar, quale pensa sia il mio compito? Ogni nuovo marinaio viene controllato da me prima di essere assunto. Chi può essere stato? Questo dobbiamo scoprirlo noi. Noi? Certo, perché due cervelli pensano meglio di uno. Qualche obiezione? Senta, scoprire cosa è successo lassù. È compito mio. Signor Falco! Questo lo dici tu. Quest'uomo ha visto l'esplosione. Da dove? Dov'era? Beh, stava attraversando il campo. C'era un camion parcheggiato in fondo. Volevo avvertirgli che questa è proprietà privata. Quando sento il motore, alzo la testa. Io guardo un attimo e pum! È esploso. No, un momento, scusi. È stato uno scoppio leggero come benzina che brucia? Pum! O è stato qualcosa come dinamite? Bum! Bum! Come dinamite, fortissimo. Ha staccato i vetri di casa mia. Grazie. Quei pezzi dove li porto? Ho intenzione di portarli giù all'hangar per farli esaminare. Bene. Ok, grazie. Prego! Oh, figlia mia. Mamma. Come stai, mio ragazzo? Domenico, dov'è? Lo voglio vedere, ti prego. È in sala operatoria. Non può entrare nessuno. Vieni, coraggio, sediamoci lì. Con questa donna. Cosa ci fa lei qui? Cos'ha da spartire con la vita di mio figlio? Ti prego, Inga diventerà mia moglie. Trattala con rispetto. Rispetto? Ti porti dietro la tua amante mentre il nostro figlio sta morendo e osi parlarmi di rispetto. Mandala via, questo non è posto per lei. Abbiamo fatto il possibile. È ancora... Sì, è ancora vivo, in teoria. Lo teniamo in vita solo con gli apparecchi. Purtroppo il cervello è irrimediabilmente compromesso. Ma se è vivo ce la farà, almeno c'è qualche speranza. Deve esserci. Posso vederlo? Per favore, la prego. E se spegnete gli apparecchi? Gli toglieremmo la vita. Sarebbe molto più umano per lui. Ma noi dobbiamo tentare anche l'impossibile. Mi è stato ordinato di non parlare con nessuno. E non intendo fare alcuna eccezione, signore. Ha un minuto esatto per scendere dalla barca. Chi gliel'ha ordinato? Falco? Capitano! Trenta secondi, Templar. Capitano, sarà meglio che cambi idea o comincerò a credere che è stato lei a fare il segnale. Quale segnale? Quello partito dallo yacht poco prima che decollasse l'elicottero. Quello che l'ha condannato a morte. Ma di che diavolo sta parlando? Signor Templar. Sì, lo so, lo so. Falco me l'ha detto. L'equipaggio è fidato e anche lei è fidato. Qui tutti amavano Leo. Nessuno ha fatto segnale. E quello che lei sta insinuando è soltanto una bugia. Una schifosa bugia. Ma c'è sempre qualcuno che odia la gente troppo ricca. Pensavo che lei potesse aiutarmi. Gliel'ho già detto. Amavamo Leo. Amate anche suo padre? Il caffè, capitano. Templar, a me piace molto il mio lavoro. E questo le deve bastare. Il caffè è per lui. Bene. Poi riaccompagnalo con la scialuppa. Che ci fai? E' morto. Inga e papà sono alla villa. La mamma ha avuto una crisi isterica. Ho accompagnato a casa, le ho dato dei tranquillanti e l'ho messa a letto. Se resto qui mi ubriacherò. Dove hai la macchina? No, sono con l'autista di mamma. Ti porto a casa? No, è l'ultimo posto dove andrei. Ti prego, Simon, portami con te. Ok, andiamo. Tuo fratello era un caro amico, mi mancherà. Molta gente non se ne accorgerà nemmeno. Chi, per esempio? Il porco di Falco, per esempio. Non andavano d'accordo? Erano sempre i ferri corti. Leo lo odiava e lo odio anch'io. Tu non puoi immaginare quanto lo odio, è un essere ignobile. Sta studiando qualcosa contro papà, ne sono certe. E cioè? Preferirei non parlarne, non ho prove. Carla, tuo fratello è stato assassinato. Se sai qualcosa, dimmelo. Se vuoi informazioni su Falco, perché non le chiedi a qualcuno della Cina? Lavorava per loro finché non lo buttarono fuori. Era abituato a risolvere tutto con la violenza. È il metodo che usa anche adesso? Puoi chiederlo a mio padre. Lo paga lui dopo tutto. Si tolga di mezzo, Templar. Voglio vedere i resti dell'elicottero. L'hangar è chiusa a chiave. Allora lo apra. Senta, lei mi sta rompendo, quindi se non vuole che io rompa lei, salti sulla macchina e sparisca. Guardi che non sto scherzando, Templar. Le proibisco di cacciare il naso ovunque, sulla barca, tra i rottami, a portercole, dappertutto. Vorrei dire che mi aprirò l'hangar da solo. Prima però dovrà darmi le chiavi, non crede? No. Gli dia le chiavi, Falco. Nella tasca sinistra. Grazie, amico. Gli esperti hanno già controllato ogni molecola di questi resti, Templar. Cosa pensa di poter scoprire di nuovo? Ma cos'è questo? È il serbatoio della benzina. Almeno un'ipotesi è esclusa. E quale? Che lo scoppio sia avvenuto là dentro. La gerignite è potentissima. Si sarebbe ridotto in mille pezzi. Non formo l'ipotesi avventate. A sentire agli esperti, quel pezzo non c'entra per niente. Gli esperti si sbagliano. Questo pezzo c'entra e come? E spiega tutta la faccenda. Questo è l'impennaggio di un GA Mark III. È un missile terra-aria. Già. Chiami la polizia e dica che si è trattato di un sabotaggio. Che cerchino un camion con sopra... Il camion. Ma certo, andiamo. Ah, tenga e non dimentichi di chiudere. Ehi! Buongiorno! Si ricorda di me? Ah sì, buongiorno signore. Senta, quando è esploso l'elicottero, lei ha detto che c'era un camion sul suo terreno. Un camion? Ah sì, laggiù, fino agli alberi. E si ricorda cosa trasportava? Eh, una specie di gru con due uomini. Uno era vestito di chiaro. Potrebbe descriverceli. Li ha visti in faccia? No, signorina. Ricorda il punto esatto? Ma sicuro, venga. Andiamo. Senta, per caso ha letto il numero della targa? No, era troppo lontano. E dopo l'esplosione, boom, è sparito. Aveva fretta? Molta fretta, ecco, era qui. Mi dica, prima dell'esplosione lei ha visto una specie di lampo o ha udito un rumore? No, signore. Ma sentire era impossibile. C'era il motore. E ha notato altre macchine qui intorno? Per esempio, su quella collina laggiù? No, signore. Mi dispiace. Non deve dispiacirsi. Mi è stato di grande aiuto. Arrivederci. Arrivederci, signore. Signorina. No, Simon, io non ci credo comunque. Mi dispiace, ma non ci credo. Hai forse qualche altra idea? No, però... Tuo padre è uno dei più grossi capitalisti del mondo, non è vero? Sì, è così. E l'elicottero potrebbe essere stato fatto saltare dai suoi nemici. Ma non da un uomo che lavori sul nostro yacht. L'intero equipaggio è praticamente come una famiglia per noi. Senti, Carla. Quel lampo non può essere stato una coincidenza. Era un segnale diretto dallo yacht agli uomini del missile per avvisarli della partenza di tuo padre. Non era lui a partire, ma Leo, capisci? E a bordo lo sapevano tutti. Quindi ciò che sostieni non ha alcun senso. Allora, dimmi se questo ha senso. Se tuo padre era il bersaglio, lo è ancora. Voglio dire che nessuno organizza un colpo del genere e poi lascia perdere tutto solo perché ha fallito la prima volta. Cos'è successo? Domenico è sparito. Come? Quando? Ce ne siamo accorti proprio ora. È colpa mia, l'avevo lasciato solo. Lei chi è? Tino Conti, servizi segreti. Passeggiava in giardino, mi ha chiamato e mi ha detto vattene. Ho pensato che volesse restare solo col suo dolore. Le è sembrato avesse voglia di uscire? No. Ha dato un'occhiata nei ritorno? Sì, certo. Aveva ricevuto qualcuno per caso? No. Ha visto estranei qui intorno? Ci sono uscite secondarie in giardino? Sì. Forse è andato a fare una passeggiata. Senza scorta. Senti, considerato il suo stato d'animo, pensi che sia potuto andare da tua madre? Dalla mamma, non direi, ma è possibile. Ok. Senti, questo è il numero del mio radio telefono. Se ci sono novità, chiama. Continui a cercarlo. A bene. Si sente bene? Sì. Sì, sto bene. Grazie. Deve scusarmi, mi sono appena alzata. Lei sta cercando di scoprire come è morto il mio povero ragazzo, vero? Cosa ha scoperto, mi dica. Beh, sto ancora indagando. Quando saprò qualcosa, glielo dirò. Aspetti. Io provo una strana sensazione. È difficile spiegarla a parole, ma... Oh, santo cielo, perché ho lasciato che i miei figli venissero affidati a quel mostro? E quale sarebbe questa sensazione? Come posso spiegarglielo? Sul conto di Domenico corrono strane voci, ma è un affare pulito, signor Templer. Inganno e violenza. E io sento... Io sento che lei è morto stritolato da questa violenza. Sia più precisa. Rocco Falco. Non sa che ha ucciso anche il marito di Carla? Cosa? Gerd von Brissen. È stato un incidente automobilistico. Sì, ma... Lei vuol farmi credere che non è stato un incidente e che Falco lo ha... Su ordine di Domenico, ne sono convinta. E il motivo? Non l'ha ancora capito? Domenico è molto possessivo. Lui vuole il mondo e lo vuole con tutto quello che c'è dentro. Non poteva sopportare che Carla fosse lontana e felice con un altro uomo. Un momento, mi ascolti. Cerchiamo di chiarire una cosa. Lei sta insinuando che... Le sto semplicemente spiegando che Falco ha già commesso dei delitti per Domenico. Delitti che li legano l'uno all'altro. E quando uno è legato, arriva il giorno che vuole sentirsi libero. Capisce? Non del tutto, no. Ecco, non ne sono sicura. Ma Domenico doveva salire sull'elicottero, vero? Allora non potrebbe darsi, e questa è solo una supposizione, che l'esplosione sia stata causata da Falco, che tentava di liberarsi del suo carceriere? No, non ti sembra di essere per 4 ore 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 Pronto, Falco? Sono Tino. Ma dove ti hai ricacciato? È un'ora che ti sto chiamando. Beh, ora mi hai trovato. Il vecchio è sparito. Forse è andato a fare una passeggiata, ma è senza scorta. Pronto, sei ancora lì? Mi spiace, il locale è chiuso. Signor Cavalcanti, ho capito, il locale è chiuso. Dammi un cognac. Sì, subito. Una bottiglia? Sì, signor. Vattene Nicole, per ora basta. Sì, signor. Sì, signor. Sì, signor. Sì, signor. Sì, signor. Sì, signor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ha fatto distruggere le prove da Falco e lui non ha battuto ciglio. Eppure anche questo è un crimine. Crimine? C'è stato un solo crimine ai miei occhi e lo sistemerò personalmente. Sa perché ho detto a Falco che l'avrei ricevuta? Per pregarla un'ultima volta di non interferire più nei suoi affari. Mi dia retta, Templar, non glielo dice il solito brigadiere di polizia, ma Domenico Cavalcanti. Dal dolore alla paura sarà interessante scoprire da dove proviene quel missile, signor Cavalcanti. Ora mi scusi, ma devo parlare a sua figlia. Templar, dato che lei era amico di Leo e che qui non ci sono testimoni, le dirò quanto segue. Se quel missile arriva nelle mani della polizia finirò dentro per dieci anni. Proviene da una partita che io dovevo consegnare a un certo paese africano in violazione di almeno 20 leggi internazionali. Qualcuno ha scoperto il gioco. Ha saputo dove tenevo i missili e ne ha usato uno per... Forse gli assassini di Leo volevano fare dell'ironia. Li divertiva l'idea di uccidermi con le mie stesse armi. Dunque ammette di essere stato lei il bersaglio. Lo ero e lo sono ancora. Il traffico d'armi è continuamente in rialzo. Ma stavolta ci ho rimesso mio figlio. Mi tolga una curiosità. Leo lo sapeva? Credeva si trattasse di macchine agricole. È stato un triste compleanno. Templar! Non dimentichi ciò che le ho detto. D'ora in poi ne resti fuori. Dato che era amico di Leo non vorrei toglierla di mezzo con la forza, mi creda. Ma se sarà necessario lo farò. Beh, io invece le auguro di vivere abbastanza da invitarmi al suo matrimonio. Io mi preparo qualcosa da bere. Ne vuoi anche tu? No, grazie. Non ne sento nessun bisogno. Nonostante questo sole ho i brividi addosso. Allora, grazie a tutti. No, grazie a tutti. Sto andando via, ci vediamo in ospedale Prometti di stare calmo Saluta Inga Mio padre ti ha aiutato nelle indagini Ah si, abbiamo parlato dei sospetti Circa un terzo dell'umanità Templar, qualcuno è entrato in giardino Tenga gli occhi aperti L'ha colpita? Sì, alla spalla È solo un grande Se ne ocupe lei Ma dove andate? Sì, straziate Che diavolo stai facendo? Accelera Quello però... Ci sta seguendo solo da un paio di minuti Accelera, ti ho detto Accelera Accelera Qualcuno è alto L'attro Da La scelera L'amore Grazie a tutti. 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 In dietro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Papà, perché abbiamo deviato? Che succede? Tino, ci hanno visti quando hai lasciato il corteo? No, capo. Bene. Perché questo cambiamento? Perché non andiamo al cimitero? Perché non ho nessuna intenzione di assistere al mio funerale. E i suoi uomini, i suoi uomini, capitano. Tu vuoi dire che Leo è lì dentro e che l'altro... Dio mio, papà, tu non puoi fare questo, la mamma è troppo crudele, lei è convinta che dentro... No, no, non te lo lascerò fare, non voglio! Tino, fermala, anche tu, portatela qui. Chiri Eleison, Cristo Eleison, Chiri Eleison, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li mettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci del male. Amo. L'eterna pace dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amo. Chiri Eleison, Cristo Eleison. Ok, lo chiamo. Hai capito ora? Ho già organizzato il vero funerale in una chiesa di Roma, farò venire anche tua madre. Ti prometto che Leo sarà sepolto con tutti gli onori che spettano a mio figlio. Sei più tranquilla adesso? Brava figlio, andiamo. Brava figlio, e non ci vediamo. Torna a riva, fa presto, altrimenti morirà di sanguato Torna a riva, fa presto, altrimenti morirà di sanguato Torna a riva Torna a riva, fa presto, altrimenti morirà di sanguato No, tu resta con lui, io vado a chiamare la mamma, vi raggiungo in ospedale Che aspettavi ad arrivare? Dai, sbrigati, dammi una mano, non gliela faccio a camminare, dovrai portarmi in macchina All'inferno ti porto, idiota, l'hai mancato di nuovo, è vivo! Un dottore, hai capito? Un dottore! Ho bisogno di un dottore! Presto avrei bisogno anche di qualcos'altro È precisamente di un avvocato molto in gamba Tu sei distratto quando parcheggi il tuo taxi e altrettanto quando uccidi Ascoltami, Simon, non prenderla così Io ho molto danaro e... Carla, tutto quello che voglio da te è sapere perché l'hai fatto Perché tuo padre ha fatto uccidere tuo marito? O per il potere? Se fossero morti tutti, tu avresti avuto un impero Scegli tu, Simon, tu trovi una risposta a tutto Sì, tu e mio padre siete uguali Beh, io ho imparato sulle sue ginocchia come ottenere ciò che voglio E ci sono quasi riuscita Le senti, Carla? Suonano la tua canzone Non so se devo ringraziarla o ucciderla L'ho fatto per Leo, ricorda? Se le occorre qualcosa? Denaro? Aiuto? Non quel genere d'aiuto Eppure molti hanno bisogno del mio aiuto Addio, signor Cavalcanti Si goda la vita Ah, a proposito Non so come Ma la polizia ha saputo del suo traffico di missili Arriveranno da un momento all'altro La polizia ha saputo del suo traffico di missili Every day I walk along the way we used to do Thinking how you'd say to me My love, I'll never go Oh, now you've gone so far away And I'm alone again Thinking how it used to be And will it be again? It's just my heart Listen, my heart Feeling blue People tell me I'm a fool I never should've tried To get your love To win your heart To want you by my side But love wins all us So they say I guess it's time to cry I lost the game I lost the match And now I'm wondering why It's just my heart Listen, my heart It's just my heart Feeling blue And then I feel you Running close beside me Like you used to do A face, a smile, a breath Of your perfume You're here beside me I can feel you When will you come back to me Just say the word And you can set me free It's just my heart Listen, my heart It's just my heart Feeling blue So I say my heart will mend